Il tuo canale che si chiama Cerebro Non so chi cazzo siete, presentatevi Cerebro, broccolo di merda Il burino con gli occhiali rosa Ancora due dubbi, non sei manco la mia palla adesso Regà, è un cerebro e spazzatura Loro non sanno quanto fanno male alle persone Non lo devi dire così, perché sennò domani il cerebro ci fa altre puntate È la verità, loro non sanno quanto fanno male alle persone Non solo ho avuto conferma che sono degli ipocriti Ma che sono anche dei bugiardi Ecco come vi stanno manipolando Siamo ad un livello di idiozia che non so descrivere C'è veramente se siete miei contusi E magari c'è qualcuno che vada pure ragione Informatemi di quello che dovete dire Non è che vado lì e plationo come fanno questi qua che non stanno a nulla Sono in causa che quello che hanno fatto Devono pagare fior fior di danni ai miei team Ma i guglioni stanno almeno sopra di me in classifica su Twitch Devasta Milano E boh Voi campate grazie a quello che facciamo noi altri Portate rispetto a chi fa veramente qualcosa Crescita reale su tutti i costi Sofroni di televisivi Articoli di giornale Ogni cosa possibile Immaginabile Io evito di sbarare calzate Velosconi si è preparato Alla cribernazione Siete ancora Che poveri comunisti Pogliatissi comunisti è merda Vanno rovinato Alla siete dei figli di puttana Mi asmo E io non ce la faccio a giocare Perché non siete seri come me Punta sulla qualità elevata quando fai i meme Alla franculo regello Andiamo anche la contestazione Evviva Stanno fregando me Perché io sono Dio It's the world Stai bloccato e termini Giallucchi Vi leggi pieno di sangue per terra Giallucchi Ti un bel piacetto alla scoperta del Titanic Giocare d'azzardo Essere così cretini Da buttare il denaro dentro un caminetto acceso È una follia Da punto di vista delle proprie finanze personali Molto esclamativo oro grezzo Assomiglio a un complo in lancere Del trio mi era sembrato quello più intelligente Anche se non è che sia un grande traguardo Effettivamente La concorrenza non si può dire che sia spietata Dal 2019 come social media manager Più discusso E insolvente più novo in Italia Pure questa sera il vostro supporto È un po' una merda La piattaforma viola mi ha spannato Mi dovete succhiare il cazzo Come non mi interessa della loro combricola di streamer falliti Che si portano dietro Anche se leccano il culo a vicenda Perché sanno che vivono di fama riflessa E se non si è allineato con i loro valori e ideali di questa cricca Sentono il bisogno di attaccarti Ma ce l'abbiamo aperi nerd Marco Aperi nerd È iniziato con la peri nerd Oggi si fa la stoca È quel momento È quel momento La peri nerd Esatto Dalla graffetta di culo Posso dirti una cosa in amicizia? In gohi? Oh! Stacca! 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 Dovuta Alla debolezza nei confronti della sostanza stupefacente Chiamatasi Chiamatasi Cotta Ma chi ti credi di essere? Grazie per la sab Alla debolezza Grazie alla sab Marco Mi ha preso un pieno E arrivò un giavellotto Greve Tutto rosso Marco Marco ma che te ride? Cioè questa è una... Grite Violenza sul lavoro Sui capi non vado No 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 Stai facendo il gioco Grazie Nassi Time to play the game Allora le macchine arrivavano da dietro di me Altri arrivavano a destra E questa pensava solo a lei Al fatto che io potevo prenderla Se solo c'è Se solo lei si fermava Se continua a camminare Non te prendo L'ho calcolato Siete che c'è lì? Ci sono altri fattori ambientali Comunque è una scusa che si può applicare a qualunque cosa Dovevo calcolare altri fattori ambientali Allora non ho piccato Cazzo 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 Allora Se parli di dove sta c'è Se parlo io mi fai le battute Fammi parlare Porco di Porco di Porco di E che forse Petez si è innamorato di qualcuno con le treccine La vita e il teatro Cosa? Cosa? Lo sai che a volte te ne esci con certe perle Un po' di saggezza O il nippana in abbonamento È un'altra che merita Sono riflessioni che faccio da solo E poi Cioè capito Sono ore e ore e ore di riflessioni Per mezzo secondo di cose intelligenti Ogni tanto di Cazzo 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 Io non so se hai visto che cazzo c'è lassù Guarda lì Vicino al bollino rosso Il simbolo del fallimento Eeeh Ma Perché? Ammazza Dicono che sei cattiva io Quindi Però questo è il tuo atto Non sei per nulla coatto Non fai il tuo atto Che ci ispira Ma cazzo ti porta Stai calmo Porco Ragazzi seguo il Cerbero Podcast Seguite il Cerbero Podcast Fatela sapere un cerbero Io ho imparato l'italiano così Seguo il Cerbero Podcast Seguite il Cerbero Podcast Fatela sapere un cerbero Io ho imparato l'italiano così Ciao Questa è la sua unica 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 Ricordate sempre Chi si sta fa mettere In bocca le parole Si sta fa mettere pure un'altra cosa E le lettere sono cinque Dai che treni L'amor di vita L'amor di vita Ricordate Che i squali Stanno arrivare Cioè, ma è spento il tuo? Closhards e benvenuti in questo nuovo inizio del Weekend Ma cos'era? Cos'era? Chi è questa persona, scusate? Ma dove l'hanno messo? Ciao! A casa! Oggi vi sono collegato È in quarantena? Come state? Per la prima volta vediamo la nuova casa e postazione del CEO Eh, ti sei achittato una bella robetta, eh? Oddio Sì, deve venire la donna delle pulizie ancora, quindi mi scuso per lo sporco Vabbè, mi sembrano buone condizioni, dai Sicuramente non è il mogliore dello studio Sai che è che a casa non ce sto mai So fuori sede Vivo solo Non ho tempo Quindi è una combo micidiale questa Mi sembra giusto, mi sembra giusto Marco, come va? Tutto bene ragazzi, tutto bene Belli carichi, voi che dite? Una merda Diciamo che è quel famoso detto de Chaplin, no? Sto perdendo parecchi giorni Aspetta, il famoso detto de Chaplin stai perdendo parecchi giorni? Indovina Finiva così il detto de Chaplin? No Ah, ok Al contrario Parecchi giorni sto perdendo? Perché? No, qual è il... com'è il detto de Chaplin? Ogni giorno senza sorriso Un giorno... Ci avvicina di più la morte È un giorno perso È vero Quindi sto perdendo parecchi giorni È anch'io, devo dire È un periodo cupo Secondo me lo sai che è l'ora pure che è diventata... Si dice che il cambio dell'ora e anche il cambio di stagione ha un'ingerenza Cioè, però io lo noto in giro con le persone È normale, penso Ma sta ridendo adesso Sta arrivando l'autumno Sto ridendo con i muscoli facciali ma non con il cuore Detto questo, eh, assi, allora... Oh, ragazzi, le sub scadono e le sub durano solamente un mese Non è che sono infinite No, ma quindi mi sta dicendo che se uno in un giorno fa duemila sub Poi lo stesso giorno scadono Ma è la cosa incredibile È dopo trenta giorni, sì, trentuno Quanto durano? Trentuno giorni o trenta? Ma è un arrotondamento Dovete riaggiornare la sub Sicuramente molti di voi non ce l'avranno Ne sono scadute tre mila solo questa notte Ne sono scadute, scusatemi Ripita Morisse Come? Tu, Marco, ma che ti aspettavi a dire una cosa del genere? L'ho già abbassato, ragazzi Ma non mi devi abbassare Ma se farlo così significa che voglio che mi fai! Non so se ti senti Madonna, vibes alla Mr. Flame Ma proprio Vecchio stavo I microfoni senza limiter Che vanno oltre E poi mi ricordo che Gianluca In edit Oh no! Oddio che taglio La rapida transformation Mi ricordo che lui in edit Alzava ulteriormente poi A in edit? Tipo metteva, che ne so, 500% Che proprio gracchiava tutto, no? Chiaro, chiaro Dal programma di montaggio Ma tutto a posto Gianluca ho visto un po' strano nella risata No? Ma dici l'aspetto, eh? Mi sto, mi sto Mi sto decadendo, Davide No, forse la camera Sono un po' decadendo L'aspetto Questo devo dirlo No, no, non intendevo quello È diverso Non decadendo Diverso? Diverso Ma meglio o peggio? Dai, sì, Franco Ma diverso, diverso Vabbè, è diverso e bello Pensa che la diversità Sono punti plus Sì Va abbracciata la diversità Assolutamente sì Allora ragazzi, ovviamente Vorrei rientrare Vorrei rientrare forzatamente In una minoranza Sto un attimo capendo come Quale? Ora che stava per dire In una minorenne Eh? Però preoccupato Vabbè pure vorrei Forzatamente Perché che se Si è sentito qualcosa, Marco? No, no Stavo dicendo Vorrei rientrare In una minoranza Però non so come Ancora, purtroppo Accetterò consigli Guarda, i pedofili Sono una minoranza Ah, vedi Per tornare al discorso Di Marco E non per incitare Ah Sì Fattuale, regà Tra i più minori No Deve essere una bella notizia Grazie per i bit Allora ragazzoni Come da titolo Oggi parleremo Del video risposta Del mitico Domingo Poliandri Che chiede scusa Che chiede scusa Proprio lui Ha risposto al video A Danny Lazzarini Quindi sono cazzi amari Perché adesso Danny si scaglierà Contro Domingo Con tutta la forza che ha Dico bene? Quello aveva detto Abbiamo anche detto Che era una cosa Sicuramente Data Dallo stato emotivo Alterato In cui si trovava In quel momento Sì Speriamo per Domingo È chiaro che Domingo Può chiedere scusa Può Insomma Devo dire che questa guerra Tra palestrati Mi piace Devo dire Devo dire che mi Mi piace molto Però lui inizialmente Aveva chiesto scusa Se era tutto pentito Se era cancellato Dai social Però che è passato Un po' di tempo Si è fatto forza Ed è tornato Io voglio dire solamente Una cosa Prima di vedere il video Ammetto che non l'ho visto Questo video di Domingo Lo vedrò per la prima volta Qua insieme a voi La chat Però se a me Mi mettono in mezzo Con cose che io Realmente non ho fatto Io non avrei La reazione di Domingo Io eh Non sto dicendo Non è che scapperei Dai social E poi dopo A mente fredda Magari mi Mi faccio un video Me lo scrivo L'ho improvviso Quello là Non cambia niente Avrei una reazione Tipo di subito Oggi dopo Regà Guardate che so Cazzate quello che ha detto Danny Questa 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 e questa Quindi già questa cosa Non mi torna Ma non voglio che sia Un pensiero Tombale Guarderò il video Ma io l'ho visto Le volte se vuoi Ti rispondo brevemente A sta cosa Vabbè diciamo Lui non è che Ha chiuso social Si era allontanato Per qualche giorno Poi Ci sono state Delle deindicizzazioni Su Youtube E su Instagram Causa segnalazioni Lui si è allontanato Qualche giorno Diciamo Non è che Abbia chiuso Qualche profilo In realtà Nel video Lo spiega Ma è abbastanza Intuibile Nel momento in cui dicevi Una shitstorm Poderosa Da parte Di un gigante Per quanto Uno possa provare A rispondere Soprattutto Sull'onda Delle emotività Cosa che verrà Spiegata Abbastanza bene Ma alla fine Insomma Sicuramente Non viene ascoltato Invece Come sappiamo Sui social Basta aspettare Un po' di tempo Per lo meno Per far sbollire Le prime Le prime componenti emotive E magari anche Per aprirsi Ad altre letture Il video Si l'ho visto Un paio di volte L'ho reputo Un video solido Secondo me Ha risposto Molto bene Ovviamente C'è chi ha aspettato Tre giorni Per far sbollire Un po' le acque Tre Non so De preciso quanto In realtà No Ha fatto aspettare Una settimana Stavo paragonando Domingo A Gesù Cristo Ah Ok Bisogna far calmare le acque Non è che poi torna Il giorno dopo Che neanche si accorgono Che te ne sei andato Vero Due giorni Un po' di tre giorni È perfetto Tra l'altro Io credo che molti All'inizio Abbiano anche preso Per bere Alcune parti Della storia Che Non sono andate Esattamente così Non per forza Per colpa di Danny Ma anche perché Si è un po' Mischiato Ciò che è stato detto Ciò che è stato mostrato Da chi è stato mostrato Quindi Si è creato un bel casino Poi come al solito A freddo Magari si ragiona Magari si ascolta Una live del Cerbero Podcast Non scherzo Però Effettivamente Secondo me Ha fatto bene ad aspettare I punti problematici Di questo video Ovviamente ci sono Abbiamo già parlato Di Danny Quindi oggi Tocca a domingo Perché giustamente qui Non è che si fanno sconti Penso che sia stato Ovviamente Molto Autoindulgente Soprattutto Sulle motivazioni Di alcune scelte Lui parla di leggerezza Leggerezza ovviamente Sì Perché prevedendo Il delirio Non avrebbe mai fatto Certe cose Non avrebbe mai detto Certe cose Ma io penso anche Una fortissima componente Di arrivismo E Un accenno Perlomeno Questa è la mia relazione Di sadismo O perlomeno Mancanza di empatia Ma Andiamo per gradi Dai Vabbè Tu Davide Stavi scherzando Però lui Fattualmente Si è visto la live Perché era presente Ogni minuto Qua all'interno Della nostra chat Scriveva Interagiva Quindi Fattualmente L'ha vista E poi non so Se ha riportato qualcosa Pare e patto Magari Che ha sentito qui Questo qua Abbiamo anche il tiktok Di Danny Magari ha assorbito qualcosa Dicendo Questo ragazzo Ha fatto una critica Pelata a noi Non lo so Io posso dirvi Che ho parlato Con Danny Come si è permesso Infatti Ho risposto Una critica pelata a noi Infatti ho risposto Guarda Danny Mi scaglierò Contro di te Con tutta la forza Che ho No non lo so Io in realtà Il tiktok l'ho visto Però Sì vabbè Magari anche Una critica a noi Non è quello Il problema Ho parlato con Danny Allora lui si è scusato Per alcune cose Perché aveva Mal compreso Degli screen Che gli avevano mandato Posso dirlo Perché tanto sono pubblici Piero Nocerino Che avevo citato Nell'altra live Ho deciso di postare Diciamo una nostra conversazione In cui in realtà Non c'era molto Se non uno scambio Mi aveva chiesto Ovviamente L'autorizzazione di farlo Se non uno scambio Sul sodio discorso Che facciamo spesso In relazione al mostro Al mostro Da bruciare In pubblica piazza E non c'era assolutamente Nessun riferimento A Danny Nessuna critica Allo stesso Che invece Poi Insomma Si è un po' Arrabbiato Dicendo che io Andavo a scrivere In giro alle persone In realtà no Mi aveva semplicemente Scritto un messaggio Piero Ma molto pagato Dicendomi Guarda ho apprezzato La vostra live Perlomeno Poi ha scrinnato Il messaggio E ci ha fatto Al post Senza dirti niente No no Me l'ha detto Ma posso pubblicarlo Ho fatto sì Non c'è nulla De privato Non c'è nulla De strano E quindi Lì per lì Danny si è un po' Arrabbiato Perché pensava Fosse Non lo so Una critica a lui Non so In quale ottica Però mi ha detto Guarda È un momento Un po' così Gli ho detto Guarda Danny Non ti preoccupare Ci mancherebbe Sono giornate dure Per entrambi Diciamo Voi soggetti Della questione Nel tuo caso Sono ancora più Indulgente Per ovvi motivi E poi sul resto Ci siamo confrontati Con cose che insomma Non devo ripetere qui Perché io Ho riportato a lui Il mio punto di vista Che già ho esposto in live E lui mi ha detto Le sue Quindi è stato molto educato Io anche spero Di essere stato altrettanto educato Quindi non c'è Non c'è Alcun astio Come non c'è Verso nessuno Ragazzi Tranne verso Marco Chitano Ma questo ormai lo sapete Che è un odio E amore Maggiore ose Ma per favore Ma chi ci crede Ma a cosa esattamente In generale A te Però possiamo dirlo Che abbiamo invitato entrambi Che Danny comunque Ha preferito non venire Questo qua Penso che lo possiamo dire Sì Ci abbiamo parlato Non diciamo le motivazioni Però Poi non so Se sono le stesse Che Che ha detto a me Che ha detto pure a te Quelli sono cavoli suoi Se lo vuole dire Lo dice Comunque sì Sono stati invitati Lo diciamo pure perché Comunque sì Sono stati invitati entrambi Non ho capito Non ho capito la contestazione Siamo scusa Che non stavo leggendo la cia No neanche io appunto Cioè che sarebbe una balla questa Che non è vero La mia conversazione con Danny Sì esatto Ma non Avessi detto qualcosa È sconvolgente Ho detto che ci siamo sentiti E ci siamo detti Rispetto ai punti di vista Vabbè Quindi ora come stai messo Con Danny Lasciamo perdere Hai fatto pace Ma guarda Gli ho mandato un paio di sigari Di sigari? No no di sigari 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 Russi Ok Come stai messo Ma io non ho mai avuto asti Verso Danny Ragazzi Non è cambiata la mia posizione Questo è il punto Semplicemente Ci ho tenuto A parlare con lui Di alcuni aspetti Punto Però era per dire Che insomma Non ci sono nemici Né niente Cioè qua si parla Di una questione E per rispondere Ragazzi Diceva una critica Se è critico Verso di noi È liberissimo di farlo Allora Let's go Vi chiedo scusa Domingo Poliandri Chiedo scudo Chiedo scudo Classico sospiro Ovviamente Sì sì Mi ricorda Il sospiro tuo Quando avviene qualcosa Che non ti piace Che sento proprio Qua Alla Alla mia sinistra Esatto Nel caso di Gianluca Invece è tipo Sì 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 Da manuale Comunque è dimagrito parecchio Sì Vero Un botto Che è una cosa È una cosa classica Pure quella È una cosa classica Ma nel vostro mondo Si dice come insurto Ti sei Ti sei Magrito Ti sei asciugato Sì Ma dipende 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 se lo prendi Come tale Ok quindi sì No Non dipende C'è chi lo prende Come tale Lui non lo so Perché in realtà Lui è interessato Più No la gente Di questo Quindi l'hai insultato Nella sua community Sì De base I bodybuilder E quindi ho capito Quello che hai fatto Lui non è un puro bodybuilder Però Cioè L'avessi detto a Danny Sarebbero stati i cazzi Che i bodybuilder Duri e puri A Danny è gigantesco Però non gli puoi dire Guarda che Danny è grosso Eh lo so che è grosso È più grosso l'idea È parecchio Lo so Non l'ho visto dal vivo Guarda E non te si sente Marco Non so perché No C'hai il mic spento No Io non ti sento Muovi un po' il cavo Ecco Ma parla mo Ah no Pure mo è staccato Adesso sì Adesso sì L'ultimo cavo da cambiare Ragazzi Che 15 metri È un po' un casino Lo cambieremo Dai Mi fai un attimo senti Se mi arriva il video sotto L'audio Eccoci qua Dopo una settimana Di pausa Da quando è scoppiato il casino Questo video Sarà diviso In quattro parti Una Madonna Che cazzo è Harry Potter Una quadrilogia Sì Dai E poi divide il video In quattro parti Che cazzo devi dire Eh vabbè Da 28 minuti l'una Poi Il signore D'Anelli Per chi non avesse capito Come sono degenerate L'agonia mediatica Che ovviamente ho subito E la quarta parte La lascerò per considerazioni finali Intanto Per chi non mi conoscesse Io sono Domingo Poliandri Dato che questo video Verrà visto da tutte le persone Che mi hanno conosciuto Attraverso questo scandalo Sono un powerlifter agonista E da 13 anni gareggio Ho aperto il canale YouTube Tanti anni fa Ho cominciato a utilizzarlo Per lavorare Da 2020 ad oggi Inizialmente facevo contenuti Altamente tecnici Molto informativi Ma vedendo che l'algoritmo Non spingeva tanto Come tanti contenuti tecnici Esistono oggi Ho deciso di fare Delle reaction A personaggi Con cui ovviamente Non avevo interazioni Riguardo panca piano Squat e stacco Sono video Sono video che sono andati Molto bene Qualcuno li chiama dissing Ma in realtà Sono video reaction Paraculate Già sento paraculate Solo io Sono malfidato Sta adottando La tattica Narrativa Distorta Per far vedere Che comunque Non sono così cattivo Ma vabbè Adesso non è che abbia detto nulla Dopo Un po' c'è quello che dici Però Non avendo mai visto Un suo contenuto Non posso valutare Ma io l'ho visti Io mi baso Tramite la percezione E tramite Quello che disse Davide Spiegando I suoi video Che faceva Verso Ald Comunque Sembrato una persona Ma non voglio di satica No Però diciamo un po' Il profilo È un attimo quello E non c'è nulla di male Sarei poveri da io Vorrei almeno dillo Paraculo L'imitazione di questi personaggi Talvolta ha fatto ridere Talvolta ha fatto scandalo Per una comunicazione Che è stata Poco efficace Ma in ogni modo Non si è mai creato Un grande astio Nei confronti Se non con personaggi Un po' tanto permalosi O altro Quando c'è stato bisogno Di chiedere scusa Per delle battute offensive O ritenute tali L'ho fatta privatamente Ecco Qui volevo stoppare Allora In realtà Quello che dice Gianluca Avrei voluto dirlo Dopo la presentazione Ovviamente lui Si presenta Un po' Per quello che dice Gian Cioè Non sono solo Quello noto per Che è anche vero E qua C'è la prima componente Un po' Diciamo Autoassolvente Io l'ho visti Praticamente tutti I suoi video Reaction Slash dissing Alcuni li avevo citati Anche nell'altra live Come quello Su Noah Anche a Marco Pitti Master Wallace Insomma senza fare L'elenco Però Devo dire che Se è vero che Molti erano Interessanti Dal punto di vista Tecnico E quindi effettivamente Forniva una sorta di servizio Più che errori Comunicativi Secondo me C'era proprio Una voglia Perculatoria Molto spesso Tossica Questo lo possiamo dire Io l'ho solo fatto Per l'algoritmo Io l'ho solo fatto Io non volevo Perculare nessuno Ma sai Più che altro Non so Quanto lui Quanto lui sia consapevole Perché alle volte Mi sembra proprio Un ignorantone Su certe definizioni Che dà Come quello che vi dicevo Relazione alle battute Belle e razziste Su quel ragazzo O altre cose Cioè alle volte Soprattutto all'inizio Mi sembra uno che Utilizza degli stereotipi Pecchi Proprio da Da boomeraccio No? Tipo da Da vacanze di Natale Altre volte Vedo un po' più di Cattiveria Che avevamo sottolineato Anche l'altra volta In relazione Al fatto di sentirsi Un grande stand up comedian No? E quindi l'utilizzo Della Della presa in giro Su un punto Debole dell'altro Per sentirsi migliore E questo in realtà L'ha sempre fatto E aggiungo Che quando lui parla Di assenza di dissing Andrebbero separate le cose Perché è vero Che lui faceva dei video Anche tecnici Con magari infarciti Da battutine Più o meno felici Molte secondo me felici Altre innocue Altre stupide Basta Altre divertenti Però Lui comunque Ha creato molti problemi Anche da questo punto di vista Della divulgazione Di fatti personali Anche su dirette Instagram Che ho visto Col famoso Marco Pitti Che citavo Nacque un delirio assoluto Perché Come si arriva A fare reaction Partendo ovviamente Dall'argomento palestra Ha i cazzi personali Degli altri creator C'è un po' Un salto da fare Sì esatto Infatti È giusto dirlo Perché manca un pezzo Cioè Marco Pitti Youtuber Che parla di Che ne so Metodo bulgaro Ok Domingo risponde Dicendo la sua E va bene Anche tecnicamente Poi Alcune prese in giro Alcune Critiche sensate Anche tecniche Risponde Marco Pitti Magari in modo tecnico A volte risponde Marco Pitti Per dirne uno Perché è quello più famoso Poi magari si è arrivato Un confronto Come è stato nel loro caso Su Instagram Anche dal vivo Nel senso che per un periodo Marco Pitti È andato anche Da domingo Per Farsi Diciamo Aggiornare Su alcune Specifiche In live Poi Lo stesso domingo Ha raccontato Alcuni aneddoti Anche extra Lavoro Fatti con questo Marco Pitti E da lì È cominciata un po' La robetta Da Da Don Nicciola Che seguiva Desperate Housewives Quando lo mandavano in tv Meraviglioso Tra l'altro E quindi Chiesto Marco Un altro ragazzo Che faceva videotecnici Loro si sono conosciuti Sono diventati una coppia nota Ma prima Di questa coppia Meravigliosa In realtà ci sono stati Diversi trascorsi Perché da una critica Slash dissing Ai contenuti Poi si è passato Di un incontro Anche interessante Poi da lì Ci sono state Delle criticità Sia da parte di Domingo Che da parte di Marco Pitti E sono uscite fuori Alcune cose personali Che io ai tempi Trovai molto spiacevoli Cioè Domingo Provò a Delegittimare molto Marco Pitti Dicendo anche alcune cose Relativa al suo lavoro In palestra Come istruttore Alludendo al fatto Che fosse un po' Un ubriacone E cose Di vario tipo Sono amici ora Sì l'ho appena detto Tesoro Basta ascoltare Quindi Per tornare al fulcro Non è nuovo A questo utilizzo Delle cose Che avvengono in privato Per motivazioni sue Ok Anche per distruggere Se vogliamo qualcuno Eh ma finisci male Pino o poi Ma infatti È quello che è successo Ed è ciò che Per esempio Noi abbiamo sempre Eliminato Qualsiasi componente Di Diciamo Elemento Coperto da privacy Non si parla di vita privata Si parla di operato pubblico Sono Ma non è per quello Sai che Non so tutti quanti capaci Cioè chi fa il passo Più lungo della gamba Da quello che ho sentito Sia da Davide Sia nel video di Danny A me lui sembra Il classico tipo Che ha fatto il passo Più lungo della gamba Anche più volte E quindi secondo me È anche inevitabile Perché Tu puoi parlare di altri Puoi fare action Specie se Come avevi spiegato bene Pure tu Lo faceva Su cose tecniche De Palestra Però quando sei un tipo Che arriva a vantarsi Se uno piange Se lo distruggi Se hai no Quella vena lì Distruttiva Primo o poi Ah carota Entra in culo E quindi Io non è che Mi meraviglio così tanto Nel caso di Domingo Questo Perché uno può fare Quello che vuole Però devi stare attento Questo giro Mi ero spinto Un po' oltre Con delle live Che non avevano Motivo di esistere Perché negli ultimi anni Avevo cambiato La mia forma mentis Migliorando la qualità Dei contenuti Portando altri personaggi Invece sembrava Che ti divertivi tantissimo Che stavi godendo Chiedendo 350 like Per di cose private Cioè Non sembrava una cosa Che non volevi fa O che eri un po' incerto Sembrava proprio Il tuo pane quotidiano Ad onore del vero Portando storie Portando interviste Portando anche mie gare Un po' di tutto Chi lo sa Questo è vero Poi chiaramente Io parlo solo Avendo visto il video di Danny Quindi ho una visione Parziale di tutto No ad esempio Questo che dice è vero Ma l'avevo detto Anche nella scorsa live Nonostante qualcuno dica No siete stati di parte Nell'ultimo periodo No no Ha fatto anche cose buone No però nell'ultimo periodo In particolar modo Si era decisamente spostato Verso una tipologia Di contenuti Molto più Safe Molto meno toxic Ripeto Quelli del Però ha anche fatto La cosa più grave Sinora Nell'ultimo periodo Si Quindi Grave come altri Puoi dire Non faccio più Quella condotta là Però faccio una cosa Gravissima E comunque E appunto Secondo me Sono tratti Della sua personalità Che ogni tanto Emergono Però diciamo A livello di Contenuto portato Non di live Intendo di video Effettivamente era Completamente cambiato L'andazzo Cioè la tipologia Di video standard Di domingo Era un'altra E c'era Ad esempio Spero continui Poi non lo so Una bella rubrica Con il poc'anzi citato Piero Nocerin Molto interessanti Dove si portavano Magari degli atleti All'entrata della sua palestra Magari facevano E magari facevano delle pose Di bodybuilding Con una bilancia specifica Per calcolare Ah quindi uomini Che ammirano uomini In mutandine Esatto Nudi Oliati Esatto Bello No non oliati Ah non oliati Sudati però Non sempre A volte si Diciamo che l'olio Depilati Non sempre Anche in questo caso Ok Però l'olio conferisce La componente gayistica Maggiore Secondo me Minchia No 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 Prima rimane Secondo me Nell'etrosessualità Ma secondo voi La pratica La pratica Del gerbuilding Secondo me si I bodybuilder Secondo me si Pure secondo me si Si Anale Anale Per forza E vabbè Comunque per dire Che effettivamente Il contenuto Era cambiato Ma come diceva Simone Poi in quella Specifica live Abbastanza delirante Soprattutto in quel Frangente Si Si è uscito Con la grande Cappellata Ok Siamo a confermare La bontà del mio lavoro Però C'era tipo Un rumore di fondo Di persone Con cui comunque Ho avuto piccoli Bisticci Più di uno E questa cosa Ha alimentato Tutto un sottomercato Tossico Di persone Che mi vedevano Non di buon occhio Perché sono sempre Stato un personaggio Schietto Che dice le cose davanti Quindi Come tutti i personaggi Polarizzanti O stai con me O stai contro di me O si ama O si odia E questa cosa Ovviamente ha creato Delle fazioni Chi non mi poteva vedere Chi vedeva solamente Il male Chi invece Ha sempre apprezzato I miei contenuti In questa vicenda Ovviamente Non ci sono fazioni Perché quello che ho fatto È sbagliato In una live Tra l'altro Non specifica A quel personaggio Mentre parlavo Con i miei Spettatori Ho lanciato Tipo un gioco Che consisteva Nel raggiungere Determinato numero di like E dire una cosa Che poteva essere Un gossip Non per forza Una cosa molto privata O sensibile Ma un gossip Su qualcosa Che non era stato visto Nel mio video Con quel personaggio In questo caso Dissi che per 350 like Avrei raccontato Un segreto Di un video Fatto con questo tizio Era in realtà Una sorta di specchietto Per la lodole Era un modo per vedere Vediamo quanto sono malati Queste persone Per satiricazze Ovviamente questa è una stronzata Secondo me Vediamo quanto sono malati Però se sono così malati Ci ricavo io Alla fine Quindi Secondo me Questa è una grande Quindi vuoi guadagnare Sulla malattia Vabbè poi Allora Diciamo una cosa però Smentiamo anche un pochino Il discorso Che è stato decisamente Ingigantito Del guadagno Mi spiego Anche Fanpage Ha fatto una roba Che non c'entrava un cazzo Quella realtà 350 like È uno sputo Una scoreggia Nel senso Cioè Secondo me Lì Allora Che lui abbia una componente Di arrivismo E che difficilmente Si metta dei freni Lo sappiamo E l'ho detto fino adesso Però Nello specifico della live Secondo me È stato più Un gesto Edonistico No Come posso dire Unanistico Che è un gesto economico Perché alla fine Con i like Non è che guadagni direttamente Cioè era più una roba Vi faccio vedere Quanto sono scomodo Per questa community E vi racconto Ciò che gli altri Non vi raccontano In questo caso Per fortuna Perché sono cose private Ma È stata confiata Un po' questa componente Del soldo Legata al racconto Secondo me Non è questo Secondo me Era una Grande sega Proprio Masturbazione Sì sì Ma poi lui Ha parlato anche De persone Che vede come pedine Quindi è il classico Modus operandi Che è una persona Che sta calcolando Quello che fa Non sta lì a caso A fare le cose Questo qua pure Secondo me Va specificato Quindi qua Sta a fare Come che sta a fare Il paracula Sì 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 Questa è una paraculata Questa è una paraculata Ovviamente Poi magari Pensa anche questo Ma comunque Alla base C'è quello che abbiamo detto Tanto non avrei mai Rivelato nulla Tant'è che nel video Poi Che non è stato messo Nel video Ecco questa invece È una parte importante E qua torniamo Ad alcune criticità Del video di Danny Cioè La rivelazione Del vero contenuto Che poi ha creato Il disastro Quindi Sulle intenzioni di Domingo Sul risultato di Domingo Sul suo modo di fare Abbastanza squallido Ci ripetiamo Ma Va bene così Insomma abbiamo capito L'antifono Lo sappiamo Però Adesso arriva il discorso Della grande rivelazione Ad opera Del buon Domingo E stranamente C'è una parte Che io ho visto Dalla live Che È stata tagliata Dal buon Danny Lazzarin Chissà perché Per tempo Per professionismo Non avrei mai rivelato nulla Tant'è che nel video Poi Che non è stato messo Nel video Chiedo aiuto Io dirò alla fine Neanche per un milione di like Ve l'avrei detto Nel caso di Danny Non vi dico la domanda Che io ho fatto La battuta Assolutamente Non lo saprete Neanche per due milioni di like Quindi era chiaro Sapete perché S'era tagliata questa parte E qui torniamo al discorso Perché non è utile Non è che devi mettere ogni cosa No Al contrario Limiti di tempo Al contrario Al contrario Non è perché non è utile Non la metti Perché altrimenti Decate tutto quanto il video Perché se tu devi far passare lui Come un personaggio Venga Io vi sto parlando Dal punto di vista tecnico Ma voi sapete Quante volte l'ho fatto io Tantissime volte sta cosa Certo Se Allora I tagli si fanno Appositamente Per far passare un messaggio Soprattutto dell'altra persona Se Danny Avesse messo Staparte qua Quel video perdeva Incredibilmente Di ipotenza Io questo lo dico Per l'onestà intellettuale Ah no no Esattamente questo è il punto Perché altrimenti Non sarebbe Non so d'accordo Dunque per me è una quisquilia Però prego Sto scherzando Sto scherzando Ah no che ne so Magari Voglio continuare la cosa Che non so d'accordo Che ne so Mica è legge quello che dico Ma sto accoglionando Però io penso che Con questa parte Sicuramente la versione Del potenziale ricatto Sarebbe stata meno potente Non dico totalmente inefficace Ma È stata una scelta mirata Tagliarlo Perché ovviamente Se tu metti Neanche per un milione di like Vi rivelerei il contenuto Di quella roba lì E poi dopo dici L'ho fatto Perché temevo una ripercussione Un ricatto È meno forte In un video montato Ogni frame è una scelta Ogni espressione Ogni Qualsiasi cosa Tu veda È una scelta Di chi ha fatto il video Quindi Abbiamo spiegato ampiamente Questo concetto Sì sì E poi arriva un altro personaggio Anzi altri due L'intenzione dall'inizio Di non dire assolutamente nulla Di qualunque cosa Sensibile o privata Di certi personaggi Quindi racconto di una scena Che era stata tagliata Dalla mia intervista E ho anche la stessa maglietta Dell'epoca Io mi ricordo che gli chiesi Come sempre con tutti i personaggi Di quel livello Se ci sono delle battute Che io non posso dire Tipo delle battute tabù In modo che non succedano Questi Questi crolli emotivi E ricordo che lui mi rispose Ne puoi chiedere tutto Gli feci vedere la lista delle domande Tranne la storia avuta Con Federossi Che è la cosa che Umanamente L'ha fatto soffrire Ma infatti io all'inizio Prima ancora del video di Danny Dalla live di domingo Che venne citata Nel famoso video di Gaggi Video poi Che è stato buttato giù da domingo E che adesso riprenderà Io pensavo Che il momento Di rottura Il punto di rottura Di Danny Lazzarin Fosse stato in relazione Al buon Federossi Perché loro Loro intendo Danny e Federossi Si ebbero In passato Diciamo Varie Collaborazioni E vari episodi Io Devo essere sincero Parliamo proprio di una YouTube Bella vecchia Quindi io non ricordo Precisamente come Mi ricordo che Inizialmente Danny Fece delle cose Con Federossi Credo anche pagando Perché Federossi Era abbastanza Noto Anche post Andrea Di Pre E quindi all'inizio Collaborarono Poi ci fu Una sorta di dissing Però io non so Ad oggi Se è vero o finto Una roba Che riguardava La ragazza Ai tempi ragazza Di Danny E presunte Foto di piedi Mandate a Federossi Quindi una roba Di gelosia Però Non ricordo Se è vero O falso Se poi Questa cosa Nel tempo È stata smentita Confermata E lui sta dicendo Che Non gli Cioè Che Danny Lazzarin Gli ha chiesto Di non chiedergli Di quella storia Esatto Quindi nonna Del figlio No No Ma perché Infatti Grazie mille No no Infatti Praticamente In questo momento Domingo ha detto Io ho dato Diciamo Una lista Di potenziarie domande Oppure ho chiesto A Danny Cosa posso chiederti Cosa Non devo chiederti E lui Da quella lista Eventualmente Avrebbe escluso Solo Federossi Certo Ma perché La cosa del figlio Non poteva sapere Non prevedibile No ma Era per dire Che io inizialmente Pensavo Che il riferimento Alla rottura Diciamo Emotiva Di Danny Pensavo fosse Questa cosa Di Federossi Per dire Anche quanto Non così intuitivo Come ha detto Danny L'associazione Fatta all'interno Della live Di domingo Con la storia Con la storia del figlio Grazie Carlo Per ora Ha detto solo Che lui Sapeva Di non dover Chiedere Della storia Di Federossi Quindi è andato lì Già non glielo doveva chiedere E non glielo ha chiesto In un certo senso Per tutto è dissing Che si è creato E quindi Ho avuto la sensibilità Di non fargli quella domanda Arriviamo a parlare di lui Del suo rapporto Con sua moglie Comunque stavano insieme Tantissimi anni Sono rimasto colpito Perché ho sempre pensato Se lo fosse un uomo Che ha avuto una vita Con tante donne Invece Mi ero rimasto colpito Da questo suo amore Dato che non l'avevo mai conosciuta A quel punto Mi riuscì con quella domanda E la reazione Che mi aspettavo Era Al massimo Non vogliamo figli Perché Siamo bene così Come tante persone Oppure Non posso avere figli Perché ho un problema Per tutte le storie Che c'erano su di lui Sai Le solite cazzate Della pizza all'uva E del doping Io faccio quella domanda E lui ovviamente Non è che scoppia a piangere Cioè Questa cosa è stata travisata Dalle mie parole Ha una commozione Come può essere Una persona che vede Una cosa che lo colpisce Più che travisata Ti sei spiegato te coi piedi E decide di uscire Dalla camera Giustamente Per evitare di stare lì A quel punto Chi stava filmando Che era il suo videomaker Insieme a un mio amico Che era lì ad accompagnarmi E sono testimone Dell'accaduto Spengono la videocamera Da questo punto Io non ho più Niente Sull'hard disca Nel video io dico Ragazzi La storia della pizza all'uva Abbastanza superflua Comunque qua si parlava Insomma Delle varie illazioni In riferimento al doping E quindi Domingo Nella sua testa Ovviamente Pensava Ho fatto questa domanda Sul figlio Non è che magari Non possono avere figli Per impotenza Per sterilità Di Danny Questo è Pizza all'uva Un gergo Che si usa Insomma Per dire Che utilizzano Sostanze dopanti Poi insomma Che Danny Sia dopato Penso sia evidente Ma penso L'abbia messo Anche lui Tranquillamente Credo Poi insomma Non è questo Ma è greve Se ne fotte Cazzi su Io mi dissocio Da questa affermazione Io no Qualcuno Possa Dire Che io non dico La verità Su questa storia Della battuta Perché ho la registrazione Non voleva essere Un ricatto Verso quella persona Sarei pazzo E come ho detto Non ho niente In mano Perché Questo è un punto importante Qua credo sia sincero Cioè nel senso Il pezzo Che è presente Nel video di Danny Lazzarin In cui dice Ho la registrazione Effettivamente Da quel video È parso Più come un ricatto Ma unendolo Anche alla parte tagliata E guardandolo qui Ascoltandolo E ricordandomi Anche parte di quella live Ed altri atteggiamenti Vedi da domingo Mi sembra abbastanza vero Quello che dice Cioè Ho quella parte Non quella in cui piange Ma quella in cui Diciamo Si stacca Danny Dalla Dalla conversazione Ho quella parte Per supportare La mia storia Della Addirittura Forza Che ho Nei confronti Di un uomo Grande e grosso E quindi La storia Del pianto Del grande uomo Danny Lazzarin Ad opera Di una mia battuta È vero Io l'ho intesa così Cioè Ho la riprova Del fatto Che sono stato in grado Che Non è che la rende Una cosa positiva Non la rende Una cosa positiva Ma sicuramente È diversa Da un ricatto Questo è Per me Non avrebbe fatto Intendere che Questo video L'avrebbe fatto vedere Poi alla fine Ha detto Vabbè Non l'avrei comunque Mai fatto vedere Però un po' Ci ha giocato Sì Ci ha giocato Sull'ambiguità Sicuramente Poi c'è una domanda C'è Danny Che aveva detto In più riprese Che lui Si era molto Vantato Del fatto Che l'aveva fatto Piange E che l'aveva fatto Crollare Però Le prove Di questo Esistono Da qualche parte Ma L'ha messo Lo stesso Danny Cosa? Sul crollo Sul crollo In seguito Alla domanda Dei figli No Che Domingo Si vantava Non che lui Si sia messo A piangere Intendo È vero Che Domingo Si è vantato Di aver fatto Crollare Barra piangere Ma Sì C'è anche Nella live Una sorta di Ha fatto piangere C'è anche nella live E aggiungo I famosi vocali Su Telegram Whatsapp Eccetera Che comunque Ancora poi Non sono apparsi Lui a un certo punto Affronterà Anche quell'aspetto E dirà C'è solo un vocale Dove io ripeto La stessa cosa Detta in live Non so se ha Un suo gruppetto Di amici Il suo gruppo Telegram Non lo so Cioè Ho fatto piangere Danny Lazzarin Con una battuta Stessa cosa Della live Quindi anche qui Io purtroppo Ci vedo un po' Di malafede Da parte del buon Lazzarin Perché ha fatto intendere Che ci fossero prove Di Divulgazione Di una cosa Molto molto pesante Come la perdita Di un figlio Ad opera di Domingo Quindi La storia per me È ampiamente Da ridimensionare Cioè Parliamo di Se uno va in giro A dire ho fatto piangere Danny Lazzarin Tu dici Non sta divulgando Il motivo Però lo sta facendo Chiaramente per farsi Chiedere Cioè Dicci un po' Appena tirare L'attenzione Però non l'ha fatto Quindi ti dico Per me rimane squallido Per me rimane squallido Però è diverso Andare in giro E sbattere Un trauma Della coppia Come purtroppo È emerso dal video Di Danny Cioè secondo me Anche L'enorme reazione emotiva Che c'è stata In seguito al video Di Danny Lazzarin È stata Alimentata proprio Dal fatto che Domingo Sembrasse un mostro Senz'anima In giro Con vocali Whatsapp Ma se vai in giro A vantarsi Che ha fatto piangere Una persona Anche se non dice Il motivo Dato che quella persona Che si vanta Sa il motivo Il fatto che lo continua Andare a dire È grave Sì Ha ragione Danny Lazzarin Al cento per cento Questa è la mia opinione E di conseguenza Qua c'ha ragione Simone Perché se tu sai Che una persona Ha una reazione Del genere Tu ti vanti Che ha avuto Una reazione del genere La racconti Senzati il motivo Guarda che Te Ti tiene comunque Il dolore Forse è ancora più attivo Della divulgazione Stessa Del motivo È come se io Moccio Un trauma importante Una persona Lo vi è sapegua La persona Se vanta in giro Ma non lo dice È pari La cosa Se non peggio Perché la sta anche Stumentalizzando Bravo Un conto Che la troppa Quindi dice Ok L'ho troppato Ho fatta la cazzata Invece Tenendosela così E vantandosi E usandola come arma È ancora peggio Secondo me Sì sì Empatizzo totalmente Con lui Ma che scherzi No secondo me Non è peggio Secondo me Molto peggio Rivelare un fatto Che deve rimanere privato All'interno di una coppia Questo voglio Dio Ma il fatto che tu lo sai Va in giro a dire Insomma Far intuire Che sai qualcosa Sei come una mina vacante Cioè tu non ti puoi fidare Era pure un po' Sembrato che il motivo Era perché Di una persona così Non si era capito bene Se il motivo Era veramente Che si topava Cioè il sospetto Capito pure quello Perché c'è anche Il sottotesto Di quella Ma infatti Io però Cioè ci tengo A distinguere cose E poi vabbè Dopo rispondo A un commento delirante Ci tengo A distinguere una cosa Cioè Un conto è Quello che dite voi Che abbiamo già Condannato l'altra volta Cioè è squallido Ed è squallido Sia fatto in live Che fatto su un gruppo Telegram Ok Ma è la stessa cosa Che già aveva ammesso Cioè io Ho fatto piangere Danny Lazzarin Sono un figo Sono uno stand up comedian No È una cosa Imbecille Che ha fatto più volte Perché io l'ho sentito Anche in altri video In altre live Per curare gli altri Dicendo Eh ma io non mi offendo mai Sei così permaloso Anche su cose pesanti E quindi Non è la prima volta E non me ne stupisco Però secondo me È diverso Rispetto alla divulgazione Di un fatto privato Della coppia Diverso per il pubblico Poi per Danny Lazzarin È ovvio che sia E per la compagna È ovvio che sia Una roba da merda umana Ma questo l'abbiamo già detto Che è ampiamente comprensibile Diciamo la sua reazione Io parlo per Ciò che è arrivato al pubblico Cioè l'informazione Al pubblico Non è arrivata Quella sensibile Al pubblico è arrivata Che c'è un tizio Che ha fatto piangere Danny Lazzarin Che va in giro A raccontarlo E che probabilmente E che sa qualcosa È da condannare al 100% In più Aggiungo che Domingo Ha detto anche Vabbè ma è una live Che magari era Sotto Sotto diciamo La vista di poche persone Io non mi aspettavo Una roba Eh però non funziona così Nel momento in cui sei su web Tu devi mettere in conto Sempre lo scenario peggiore Anche perché non lo fai Da due giorni No Quindi è chiaro Che poi uno Se ha tanti numeri Cercherà di stare Ancora più attento Ma anche se ne hai pochi Comunque quella cosa L'hai detta E l'hai messa Nell'equazione L'hai messa Nell'equazione web Significa che può anche Arrivare a due milioni Di persone come poi è stato Quindi su questo Che cosa Penso che abbia imparato Eh perché lui Diciamo che sottostima Le sue parole Dicendo la live In realtà aveva pochi spettatori Poi è stata diffusa Tramite un altro video Di Gaggi Questa cosa È stata rivelata Dalla compagnia di Danny E rivelata un'altra volta Col video Di Danny da due milioni Sì Però sei tu Che hai messo Nell'equazione Questa Banteria di merda E quindi Certo Avevi sottostimato La portata Ovvio Perché nessuno L'avrebbe potuto prevedere Ma comunque La devi mettere Nell'equazione Nel momento in cui Fai l'influenza Perché la registrazione Non voleva essere Un ricatto Verso quella persona Sarei pazzo E come ho detto Non ho niente In mano Perché Anche avesse registrato La scena Lui stesso Mi avrebbe detto Toglila E dammi il file E lui lo sa Che non l'abbiamo registrato Quindi mi sembra assurdo Che abbia pensato Che abbia in mano Una sorta di ricatto Tant'è che Non mi ha mai detto Neanche Di cancellare Alcunché Cioè Mi ha semplicemente detto Taglia In quella parte Quindi Ma scusa una cosa No Senza dire Il ricatto È la divulgazione Del fatto Non le prove Video Quindi è uguale Sì È lui che lo dice Anche Sì Però Ti ripeto Su questo Io non ho molti dubbi Sul fatto che Nulla avrebbe mai detto Anche perché L'aveva detto In quella live Ripeto È stato apposito Guarda ti dico la verità Sai cosa penso Che Danny Abbia Al netto Ripeto Delle emotività Ogni volta Mettiamo nell'equazione Però Abbia preferito Dire una cosa Ovvero Esplicitare Quel fatto tragico Anche perché Era già stata detta Poi lo dirà Dalla compagna E già insinuata Questa cosa Da un video di Gaggi Abbia preferito dirlo Anche per Levare Le potenziali Insinuazioni Di domingo In relazione Alla sua possibile Impotenza O sterilità Cioè c'era il dubbio Che lui poteva essere sterile Sì E beh anche questo è grave Certo che lo è Ma è quello che abbiamo già detto Certo La cosa vaga È ancora più grave Perché poi uno Può pensare A qualsiasi cosa Certo Certo Sì Con il web Che la gente Vede l'ora Dei ficcare Quindi io penso Che abbia preferito dirlo Ripeto anche perché Già l'ha detto la compagna Sotto un video E poi lo vedremo E penso che abbia preferito Dire un fatto tragico Per levare queste Insinuazioni Allora Quello che penso È che ok Ci sta Semplicemente Secondo me sono insinuazioni Che riceve qualsiasi persona Che fa utilizzo Di steroidi Anabolizzanti E alla fine Sì Possono far male Possono rompere i coglioni Però boh Non lo so Poi scelta sua Insomma La battuta Scelta sua Di dirlo Dico L'argomento E ne racconto poi Il motivo Di questa reazione La storia Mi aveva più o meno Accennata Non mi è sceso Tanto nei dettagli Però avevo capito Che era riguardava Più che altro Sua moglie Una cosa successa Sua moglie Passano mesi Perché il video Fu fatto a marzo E arriviamo a ottobre Io decido Di aprire una rubrica Di live Che sinceramente Erano live Che non dovevo fare Perché erano trash Si parlava un po' di tutto E appunto Si scade a volte Nel parlare Di cui non si dovrebbe Ero molto borderline Con quell'argomento E sapevo Che mi sarei dovuto fermare Tant'è che poi Non ho detto nulla Il problema qual è stato Che dopo una settimana Prima di cancellare quel video Che avrei comunque tolto Una persona con cui Avevo avuto una collaborazione A quel momento Abbiamo interrotto In modo abbastanza Decide di prendere Uno spezzone Di quella live Che l'ha scoperto per caso E invece di segnalarla Al diretto interessato Poi parliamo di Gaggi Un altro youtuber Maggi? Maggi esatto Maggi Grazie sempre tu Che decide di fare un video Inserendo anche La live famosa di Domingo E mettendo Diciamo Per la prima volta Nell'equazione Questo discorso Sotto al video Di questo ragazzo Gaggi Scriverà un commento La compagna di Danny Parlando Per la prima volta Pubblicamente Credo Da parte di chiunque Del discorso Del figlio Terzo Il video In questione Poi è stato buttato giù Da Domingo E aspetta Un attimo Come Questo Gaggi No che è un altro Come è venuto a conoscenza Di questa cosa del figlio Dalla live Di Domingo No Dal commento sotto Di chi? Della compagna di Danny Cioè Allora Gaggi Nel video Non parla Cosa che non quadra Gaggi Nel video Riprende la live Di Domingo Ma non è che Non parla di figlio Eh appunto No non parla di figlio Come fa Gaggi a dire Alla moglie Di Danny Lazzarin Che sa Del figlio No Gaggi Non parla di figlio Gaggi Semplicemente In quel video Fa la reaction Mette luce No mette luce Alcuni aspetti Di Domingo Problematici Della moglie Della moglie Di Danny Lazzarin A scrivergli Del figlio La moglie Di Danny Lazzarin Commenta sotto E quel commento Viene messo in alto E spiega del figlio Sì Dov'è questo commento? No ma L'hanno messo Cioè tutti Questa è pacifica Come cosa Non è che È un mistero Eh Evitare la discrezione Della tragedia Preferisce Montare Il più grande Barbaro Video Dissing Mai fatto Contro di me In modo Totalmente Diffamatorio Sfruttando una copertina Con me Che guardo Lui E gli dico Per 350 like Svelo il tuo segreto Quindi Sciacallando lui In realtà Quella cosa Per andare in tendenza Con 80.000 visual al giorno Io a quel punto Vado nel panico Perché dico Cazzo Vedete era questo Swish Era questo Il video di Gaggi Eccolo qua No no È giusto È giusto È questo qua Il tuo segreto Quindi sciacallando lui In realtà Quella cosa Per andare in tendenza Con 80.000 visual al giorno Io a quel punto Vado nel panico Perché dico Cazzo Ha preso la mia live E l'ha sputtanata In Mondovisione Adesso è un bel problema Perché se prima Magari era una cosa Messa lì Seppellita Magari non se ne sarebbero mai accorti Comunque l'avrei cancellata Ma soprattutto I like Non sono suoi Capito Sono denartro Problema No vedi Qua è quello che dicevo prima Cioè questo discorso Non ha senso O meglio Ha senso Non è reaction È sciacallaggio No no Ha senso nel momento In cui ti rendi conto Che Ti ha detto male Nella tua ottica Perché è stata vista Da più persone Avevi sottovalutato La potenza Di quella roba lì Però non è giustificazione Cioè Cazzo Uno fa una live Con 200 spettatori Diciamo che partirà Magari Con meno paletti Rispetto a uno Che fa una live Con 20.000 Certo Però lo devi mettere in conto C'è tutto in testa Eh certo Lo devi mettere in conto Infatti lui qua Secondo me Fa un'accusa In confronti di Gaggi Che non esiste Che non sussiste proprio Cioè dicendo Per colpa di Gaggi Quella roba è diventata Più virale Ho capito Maledetta te Cioè N'ha parlato Ha senso Perché Gaggi L'ha fatto per andare Contro Domingo Ma Sì Ma Ciò non toglie Comunque Che il fatto Sia stato compiuto In prima battuta Da Domingo Sì Cioè Poi Domingo Stava comunque Facendo un format Dove reagisce Comunque parla di altri Cioè Se tu fai una cosa E parli di altri E poi qualcun altro Vuole commentare Quello che hai detto Cioè Stiamo sempre Nello stesso campo da gioco Non mi sembra Che nessuno faccia Una scorrettezza Quindi Non ti puoi lamentare Esatto Beh a maggior ragione Quando fate le inchieste È colpa vostra No Ma appunto Dico Ma infatti per me È responsabile Domingo Poi Su Gaggi Dovremmo fare un'altra puntata Anche Gaggi Ha voluto marciare Su questa faccenda Ovviamente sì Però Non è questo L'argomento della live Questo video È online E sta in tendenza Decido ovviamente Di segnalarlo Perché Questo video Presentava dei vocali Miei privati Mandati a questa persona Che violavano Ovviamente la corrispondenza privata Oltre a questo Tante persone L'hanno segnalato Per lo stesso motivo Il video Fu pubblicato Il Mi sembra Il 17 Ottobre E La sera stessa Sua moglie In un certo senso Anche voi state Maciando Su questa faccenda Maciando Ma noi Maciamo su tutto Noi 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 Poi Se parla pure Deve palestra Quindi guarda un po' Se uno non può un attimo Maciare Sapere di questa Di questa live Da questo video Perché erano degli spezzoni Con la mia faccia occultata Non so per quale motivo Lei decide per la prima volta Di svelare Il perché Era successa questa scena E scrive un commento Raccontando la storia Nel dettaglio Quindi da quel momento lì Tutti veniamo a sapere Ecco Questo è un momento Molto importante All'interno della storia Ovviamente è stato omesso Da Danny Lazzarin Cioè Domingo fa la live Squallida In cui dice Sono un gran figo Ho fatto piangere Il vostro idolo Grande e grosso Danny Lazzarin Sottovalutando La potenza Di Diciamo Gittata Di quella live La live viene Fributata Da qualcuno Gaggi Che aveva avuto Degli scazzi con Domingo Decide di fare Un video In cui espone Alcune cose problematiche Alcune anche cazzate Secondo me Io poi il video l'ho visto Adesso lo ricordo benissimo Perché è stato poco online Sinceramente Almeno io L'ho visto una volta sola Purtroppo Quindi fa Diciamo Una sorta di minestrone Ok Tra effettivamente Comportamenti personali Avvenuti da loro E che quindi Io non posso contestare Perché non conosco Quindi anche lui parla Di aspetti privati Parla di altre cose In realtà pubbliche De Domingo Criticabili Che abbiamo criticato anche noi E mette Anche questa Questa parte di live Sempre per Argomentare un po' Il fatto che Domingo effettivamente Si comporti di merda Con tanti altri esponenti Della fitness community Questo spezzone di live Viene poi Diciamo ripreso In un commento Della compagna Della moglie Credo Di Danny Dove appare Per la prima volta Il contenuto Di Danny Lazzarino Cioè il motivo Delle sue lacrime E lo scrive La ragazza La compagna La moglie Di Danny La compagna La ragazza La moglie La conquilina La concubina Lo scrive nel commento Sotto il video Di Gaggi E poi viene eliminato Questo video Viene fissato in alto Il video viene eliminato Sotto segnalazione Di Domingo Per privacy E Da qui Nel mondo fitness E anche sul web In generale Arriva Il discorso Della reale motivazione Del pianto di Danny Che però era ignota Fino a quel momento Ok Sarà sentita Tipo di D Così Così capite Perché questo Si sta avvantare Sì sì ma infatti Io qua non entro Diciamo nel merito Però è vero Che fino a quel momento Non si sapeva Cosa che Non si era capito Non si era capito Dal video di Danny Sai che secondo me Quando senti Tutta gente Che parla Di una cosa Che per te È privata È segreta Non sei Cioè secondo me Tante cose Pensi che tutti Abbiano capito Ah sì tu la ti avevi scontata È vero Tu sapendola Pensi ok Hanno capito Magari tante volte Cioè capita sta cosa Invece poi vedi Che non ha capito No no c'hai ragione Ma poi è pure sgradevole Tu la sai Sì tu sai già una cosa E dai per scontato che Che avranno capito tutto Ma poi è pure sgradevole Capita Ma poi è pure sgradevole Il fatto che Un'altra persona Abbia Cioè La gente Non poteva sapere Domingo Se sapeva Tutto quanto o meno Quindi per i diretti interessati È pure sgradevole Che questa persona C'ha sta cosa Che se la vuole mantenere Quasi come Ricattino Uno potrebbe vederlo Come un ricattino Quindi il fatto di dirlo È anche per Distruggere qualsiasi arma Che c'ha in mano Quella persona È una cosa Che umanamente Si può capire Che c'è poco da dire Sì questo l'abbiamo detto Un po' l'altra volta Io Non credo tanto Al discorso del ricatto Quanto alle Potenziali illazioni Che comunque Uno può voler distruggere Qualcuno scrive Nei commenti Anche in chat Presunti tradimenti Appunto Quando non dici una cosa Ma fa intendere Puoi scifrire Tutto Impotenza Sterilità Tradimento Quindi ci sta Anche che uno Dica No ma avete rotto Il cazzo Ma vi dico io La verità Questo sì Però Secondo me è importante Anche capire La cronologia Di alcune cose Perché Lo ripeto Dal video Che comunque abbiamo Già criticato Quindi non ci soffermeremo Oggi Di Danny Non sembrava questo Sembrava che Domingo Avesse rivelato Al mondo Anche in privato Per quello che ci tenevo Primo a precisare Il discorso dei vocali Sull'altro gruppo Whatsapp Anche in privato Avesse rivelato Questo trauma È diverso Non rende migliore Domingo Ma è un'altra storia Per me O il 21 ottobre Di questa vicenda Perché lei aveva Svelato tutto Ora non so se Il marito fosse al corrente Non so se fosse Una cosa decisa A tavolino Non lo so Fatto sta che Lo youtuber decide Di mettere in primo piano Quel commento In modo che Tutti quanti Quando aprono quel video Vedano questa rivelazione Questa cosa Ovviamente ha aumentato Ancora di più L'emotività del video E io l'ho trovata Una cosa molto sgradevole Perché Hai già sfruttato Questa storia Senza segnalarla A chi di dovere Per colpire me E farmi apparire Come quello Che è apparso In quella live Dopo 48 ore Il video viene buttato giù E io spero Dove c'è scritto Dove dice Che la moglie Ha detto del figlio Mi è sfuggito Ho detto prima Hai già sfruttato Questa storia Più l'emotività Del Si ha detto Tipo Non so perché Lo ha detto Come perché Perché tutto il mondo Sta a parlare Di una cosa mia privata No no Voglio vedere Sì sì Non so se il marito Fosse al corrente Non so se fosse Una cosa decisa A tavolino Non lo so Fatto sta che lo youtuber Decide di La faccia occultata Non so per quale motivo Lei decide per la prima volta Di svelare Il perché Era successa questa scena Ok E scrive un commento Raccontando la storia Nel dettaglio Quindi da quel momento lì Tutti veniamo a sapere Il 22 O il 21 ottobre Di questa vicenda Perché lei aveva svelato tutto Ora non so se il marito Fosse al corrente Non so se fosse una cosa Decisa a tavolino Non lo so Fatto sta che lo youtuber Decide di Mettere in primo piano Quel commento In modo che tutti quanti Quando aprono quel video Vedano questa rivelazione Questa cosa ovviamente Ha aumentato ancora di più L'emotività del video E io l'ho trovata una cosa Molto sgradevole Perché hai già sfruttato Questa storia Senza segnalarla A chi di dovere Per colpire me Per farmi apparire come quello Che è apparso In quella live Dopo 48 ore Il video viene buttato giù E io speravo che il commento Della moglie Venisse Sepolto In quella segnalazione Ovviamente Lei Parlerà col marito Da come racconta Nel suo video Lei era in lacrime Perché scopre Qua pure è bruttina Sta frase Che Speravo che il commento Della moglie Venisse sepolto Insieme Alla di partita Del video Cioè Beh in teoria Così succede Eh no no Certo Però io qua noto Una totale De responsabilizzazione Da parte di Domingo Sì sì Ha detto lei Io non ho Alcuna Ma non sul dirlo Proprio sul fatto che Cioè lui dice Sì scusate Ho sbagliato Eccetera Però non capisce L'errore di fondo Del Di quella live Problematica iniziale Cioè Io ripeto L'ho visto due volte In questo video Quello che mi sembra È che È stato abbastanza preciso Molto nella cronologia Negli eventi Nella struttura Nella divisione Ma è poco convincente Nelle scuse per me Perché Da Sembra Perlomeno Attribuire più Colpe e responsabilità Agli altri Che a se stesso Quello che direi io è Ho ricevuto Una pena ingiusta Che poi è stata La nostra tesi Una pena decisa Appunto Dalla vittima E poi ci arriverà Anche a quella parte lì Sì qualcuno Anche ha voluto lucrarci Non solo il sottoscritto Gaggi Invece che andare Dall'amico Danny Ha preferito farmi un video In cui comunque Ha aumentato Quindi anche lui Ha aumentato La divulgazione La diffusione Di quella roba lì Ma è un problema per Danny Non è che Non è che leva Responsabilità a te Ok Quindi è diventato Un effetto valanga Ma è partita Da te sta valanga Questo è quello che dico io A me non sembra Così convinto Cioè lui la La identifica Come una leggerezza All'interno di una live Che è una leggerezza Ma non capisce Che il problema Deriva dal fatto Che è peggiorata per colpa Di altri Esatto Che è peggiorata Per colpa di altri Per chi ha un po' mistificato Per chi ci ha voluto lucrare Per chi ha voluto Magari farsi trasportare Dalle emotività E emotività eccetera Però Cazzo Prenditi una grossa responsabilità Del fatto che sei stato tu Ad utilizzarla In un determinato modo La leggerezza c'è stata Perché non l'hai previsto Ma è proprio sbagliato A prescindere Questo discorso Che fai Mettendo in mezzo Fatti privati Cioè non mi sembra così complesso Ma zero empatia proprio Questo è l'unico punto Che appunto Non mi piace Di questo video Poi sul resto Ha raccontato Ha messo secondo me Un po' in ordine Alcune cose Che erano state Volutamente o meno Travisate Praticamente C'era stata una scena Tra me e lui Che lui non ne aveva parlato E lui a quel punto Deve dire Raccontare la verità Su quello che è successo E quattro giorni dopo Deciderà lui poi di parlare Il 21 ottobre Raccontando Deliberatamente Cosa era successo Quasi come una sorta È un fatto privato Tesoro Non ha messo in mezzo Fatti privati Ha detto che ha avuto Una reazione forte Dopo una sola domanda È una roba privata Perché non è stata filmata Cioè dire Quella persona Si è messa a piangere O quella persona In seguito A una mia battuta È stata distrutta O completamente disintegrato Il grande Lazzarino È una cosa privata Se di comune accordo Avevano scelto Del figlio perso È diverso Ma comunque è una cosa privata Se ora succede una cosa A fine live Tra di noi Anche non estremamente grave Ma è comunque Che ne so Io mi metto a piangere Perché ho avuto Un problema oggi E magari voi domani alle 15 Lo dite Non è una cosa Estremamente grave Ma è comunque privata No Beh non diciamo il problema Però te potrebbe comunque Offender A maggior ragione Se io vi dico Regà Non lo dite in live Perché non mi va Che esca fuori Questa cosa Perché ci tengo È legato Questo pianto Ad un problema Molto serio che ho Certo Non dite Stai piangendo Perché è morto Tuo padre Che sarebbe squallitissimo Però dite Si è messo a piangere Quindi è un omino Perché credo Non so per quale motivo Credesse Che avessi una sorta Di arma di ricatto Quindi Pensava di neutralizzare La mia arma Raccontandola lui stesso Peccato che era stata Già detta dalla moglie Il giorno prima Quindi lo screen Sarebbe già girato In ogni modo Lui sa benissimo Che io non ho filmato La confessione Quindi non avevo Assolutamente nulla in mano Se non la scena della battuta Che era già stata raccontata In live Quindi alla fine Non avrei potuto Ricattare nessuno E rivelare alcunché E qua c'è un enorme dubbio Non so se L'ha fatto inconsciamente Non so se Non lo so Questo Lascerò al pubblico Decidere Iniziamo intanto Col dire che Sono dispiaciuto Per la live Che avete visto Tutti quanti So che loro Non vogliono le scuse Da parte mia Quindi chiedo scusa Sia a lui Che alla moglie Per l'emotività Che posso aver generato Nel rievocare Un brutto ricordo E per le mie parole Dette con molta superficialità Non era assolutamente Mia intenzione Ferire nessuno Ci tengo a precisare questa cosa È stata una stronzata Una sciocchezza Una stupidaggine Una bambinata E su questo Non ci piove Non posso più tornare indietro Ormai la cagata E mi scuso anche Con la community Per aver assistito A queste live Che non mi facevano bene Non erano cose tipiche Del mio canale Sono cose che mi erano messo a fare Nell'ultimo momento Ma questo non mi giustifica Nel dover raccontare Del gossip spicciolo Mi scuso anche Con i miei partner commerciali Come la Zag Plus La Insane Stone La Power Gear Perché comunque Questa storia Può averle messi in imbarazzo Nonostante comunque Avessimo un eccellente rapporto A livello commerciale E anche a livello umano Devo dire Se scusa sì L'hanno cancellato Dai codici sconto E dalle collaborazioni Quindi Non ci sta che lui adesso Si Discusi in questa maniera Un bellissimo rapporto Sicuramente ho imparato una lezione Ho imparato che devo farmi i cazzi miei Ho imparato che devo Usare una comunicazione Che non possa essere Travisata E fraintendibile Questo non vuol dire Che io debba cambiare come persona Perché sono sempre stato Un personaggio Un po' Che usa molto il black humor La satira Quindi Per una persona Che non mi conosce Può veramente essere ferito Se non capisci Ma una persona È un personaggio Che fa ridere che dice Non cambierò il tipo di persona Perché io sono una persona È un personaggio Mi fanno tagliare queste cose Un personaggio Dipende come Dipende sempre Come ti torna più utile Simo Quando devi fare Empatizza con te Sei una persona Quando devi offendere qualcuno Sei un personaggio Ah vedi De solito è così De solito Sottolineiamo una cosa Che ovviamente I fatti problematici Non hanno nulla a che vedere Con satira Battuta Black humor Cioè dire Cose private Di altri Ripeto Che se tratti Dello spritz De Marco Pitti O del presunto Licenziamento Edizio X O della palestra Y Non ha nulla a che vedere Con black humor No Sottolinearlo Sembra stupido Però Ma poi Ripatisce più volte Ma il black humor No Perché tu dici Sì Sono un personaggio Anche Diciamo Sopra le righe Che fa battute Sì Però in realtà Quello che ti è stato contestato Non ha nulla a che vedere Con questo Comunque Poi dice Sì Ho capito Che devo fare i cazzi miei Speriamo Però Cioè La critica Non era quella Non è che la shit store Ma è arrivata Perché tu Hai fatto delle battutacce Questo è il punto Sì Scrivono un certo Il cattivo gusto Che è spesso scambiato Con black humor Sono d'accordo Sì Perché poi Sembra pure Che uno non può parlare Degli altri Cioè Non è che non puoi Parlar degli altri Non è che ti devi Fare i cazzi tuoi Devi semplicemente Stare attento A quello che fai Perché se stai lì Che godi A far del male A qualcuno Poi ti potrebbero Ritornare indietro Con gli interessi Spesso e volentieri Purtroppo Funziona così Lui ha sottovalutato Lui ha sottovalutato Tutto Pensava che Non avrebbe preso Tanto attenzione A questa cosa E quindi si è Sbottonato Ed è proprio lì Che esce La vera personalità Di una persona Quando non si sente Esposto Quindi in realtà Secondo me È stata Molto più giusta La cosa Se invece lui Sapeva in precedenza Che sarebbe stato visto Da milioni Di persone Non l'avrebbe detto Sarebbe stato molto Più paraculo Rispetto a quello Che già è Questo domingo Sì sì Ma quello che dicevo Invece lui Pensando che Rimaneva lì Con i 350 like Perché sta Con i suoi gattini Si è Sbottonato Sì E questo Dice molto lunga Allora Pure qua Potremmo fare un discorso Interessante Magari lo Liquidiamo In pochi secondi Però effettivamente Come ci hai fatto pensare Al di là di quello Che dicevo prima Cioè che tu devi mettere In conto anche La peggiore delle ipotesi Quando lavori su web Quindi Sì Dico una cosa In una live Di 100 persone Ma potrebbe arrivare Anche a 10 milioni Non lo posso sapere Quindi questo Va messo in conto Ma secondo voi È peggio Dire una cosa Vabbè Sarebbe meglio Non dire proprio Però dire una cosa Di questo tipo Consapevole Di avere Un pubblico Minuto E quindi dirlo Così Come magari Si potrebbe dire Tra amici In cui si racconta Un gossipino O comunque In una cerchia ristretta Quindi senza L'intento Di voler fare Un danno A quel personaggio Lì Ma solo Una gossipata Squalidina Oppure Farlo Avendo Un gigantesco Pubblico In un momento Specifico E da una parte Sei meno fasullo Te prendi più Le tue responsabilità Però Sai anche Che il colpo Può essere mortale Quasi al 100% Tu sai Su internet Che attiri L'attenzione Specie se parli D'altri male Cioè lo sanno tutti Ma pure in generale Se mo' va dal bar Inizia a parlare male Mette qualcuno Entro Guarda quel po' Un coglione Sicuramente Attirerò L'attenzione Lo sapete che ha fatto Mo' Lo dico che ha fatto Questo è È un metodo Squallido Che uno sa Attira L'attenzione E quando tu vai A fare ormai Una live su Instagram Su TikTok Non è come Vent'anni fa O quindici anni fa Che stavi su forum free E veramente Ti vedevano In sei persone Ormai è tutto Entri nel calderone Quindi per me Per quanto mi riguarda Chiunque è responsabile Di quello che dice Anche in una live Con uno spettatore O due spettatori Perché potenzialmente Ti può vedere il mondo Non è che stai No no Quello è quello che dicevo prima Ma la mia domanda è È più grave Farsi Solleticare È più grave Se uno ha Grandi numeri E ovviamente Sceglie di utilizzare I suoi grandi numeri Come un macigno Su chiunque Rispetto magari A uno che sa Di avere letteralmente Cinque follower E si metta Di cazzate Ovvio Che sottovaluti Però ci siamo passati Un po' tutti Nell'era Di sottovalutare E tutti noi Che ora Invece abbiamo Tante responsabilità Cioè Ormai lo sappiamo Che è diverso Sì 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 Specie se uno vuole Iniziare a lavorare Vuole essere una voce Vuole essere Un punto di riferimento Tu non è che stai A parlare Sul trono Del tuo feudo Sulla tua collina E basta In realtà Tu stai a parlare A tutto il mondo Sempre No no Quello che dico io Era più sulle intenzioni Cioè forse In quest'ottica L'intenzione potrebbe essere Meno Malsana Ma più effettivamente Di sottovalutazione Questo era il discorso Cioè Leggerezza Come dicevo prima Sì Nonostante l'errore Perché Errore rimane Non voglio ripetermi Altre 700 volte Per il motivo Che ho spiegato Però Magari era più Una seghetta De gruppo Come per dire Guardate che bel pisellino Che c'ho ragazzi Guardate Non era più Un voglio sborrare In faccia Come quando le diciamo A Manuxo Insomma Quando le dici a Manuxo Ho una seghina Con la nostra chat Beh Sì Sì Forse un po' Come qualsiasi persona Quando è che diventa Invece una sborrata in faccia Quando è una critica seria Non semplicemente No Io dico satica Sborrata in faccia Cattiva proprio Volutamente cattiva Quando ce le mettiamo tutti Cioè quando stiamo in tre A fare qualcosa Là si vede Un bucà Che a volte Io c'ho le mie sborratine Gianluca c'ho le sue sborratine Con i suoi Mai 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 detto Mai detto Vabbè Era una riflessione Al di là del caso specifico Però Mi è venuto in mente Ci sta Gianmarco Zagato Grande No Gazzato Gianmarco Gazzato Che dice In tribunale Vincerebbe domingo Vabbè se lo dice Gianmarco Gazzato Ma guarda Ti dico che Ovviamente non lo possiamo sapere Perché poi bisogna vedere Per cosa Cioè nel senso Denuncia per cosa Dico che effettivamente Ma questo l'avevo già detto Effettivamente Tra i due video Quello più problematico Da un potenziale Punto di vista legale È quello di Danny Secondo me Sì sì Ma la legge Sappiamo benissimo Ma sappiamo che Il tribunale è una cosa La morale è un'altra Sì Poi volevo chiederti Qual è Secondo te Il miglior Gymtuber Il più talentuoso Il più grosso Il più bello Il più migliore di tutti A parte Maggi No Maggi Fava Anime Night Maggino Bella domanda Dipende dai parametri Cioè se tu tendi Tecnico Intrattenimento Io per esempio Allora Moralmente Master Wallace Ti rispondo così Moralmente? Per i messaggi Che mando Ok A livello invece Tecnico è il peggiore Però a me piacciono I naif No Flavio Raponi Mi sta simpatico Ma è il peggiore È un freebooter Con considerazioni spicciole Saluta Flavione Tu hai mai seguito Con consigli Di Gymtuber Per allenarti O hai imparato Da te Cioè quando mi allenavo io Non è che seguivo Gente Però Sì qualche consiglio Sì ovviamente Aladino pure Non è male È vero Eh ma Marco Ripa Se lo siamo scordati È vero Marco Ripa Don Vito Ma pure Secondo me Sì sì Potrebbe essere Un grande Gymtuber Don Vito Eh Marco Vitti Marco Vitti è un grande Te Marco pure Te stai a tonificare Anche lui è molto naif Dite me lo rega Stavo per mettere accio No sto con Whatsapp aperto Meno male che ho visto Vai No ma io soltanto Calisten Come si chiama Calistenics Calistenics Oh ma Che è un balletto Non c'era l'audio C'è Whatsapp dietro però Vai Attenzione Cio di Whatsapp Bellissimo Ah Buongiorno Vai alla fatuta A palestra Oh scusi In italiano Vai alla fatuta A palestra È un grande È un grande Questo Questo mi fa morire In tutte le lingue Papa Svolio Se lo fai in più lingue Bellissimo Stupendo Quando non c'è Voglio andare in palestra Lui effettivamente Ogni tanto mi motiva Devo dire Quando spuda Poi fa troppo Un lago Comunque sì ragazzi Il mio preferito È Master Wallace Top Lo devo dire Sembra tipo Il nome D'un attore Ah Sam Sulek Lasciavo perdere quello Mamma mia Tremendo Un bel nome però Master Wallace Figo come il nome è Black humor La satira Quindi per una persona Che non mi conosce Può veramente Usa molto il black humor Deba cambiare come persona Perché sono sempre stato Un personaggio Un po' Che usa molto il black humor La satira Non credo Quindi per una persona Che non mi conosce Può veramente essere Ferito Se non capisci il contesto In cui parlo Cioè se io fossi adesso Su un palco Da stand up comedy E parlassi di questo argomento Per quanto sia Sensibile Le persone avrebbero Una reazione diversa Prendendo pezzi Ma lui ha mai fatto Stand up comedy? No Non credo Eh diciamo che Vabbè Ci deve stare Una prima volta Per tutti ovviamente Questo è vero Si da un comedy De contestualizzati Io posso capire Per quanto abbia sbagliato A affrontare certi argomenti Che possa passare Il messaggio Peggiore possibile Io stesso Rivedendomi in live Non mi sono piaciuto Cioè mi sarei dissociato Da me stesso E questa è una promessa Che vi faccio quindi Che non si ripeteranno Più episodi del genere Mi dispiace anche Per le mie collaborazioni Ovviamente che Hanno dovuto dissociarsi E hanno anche penalizzato Per me l'ha messo Due volte per sbaglio Molta gente è andata Comunque che c'entra La stand up comedy Io non ho mai visto Uno stand up comedian Che dice Se arrivo a tot applausi Vi dico i cazzi De questo Cioè Non c'entra nulla Con la comicità Tutto questo Se lui si sente Uno stand up comedian Sono contento per lui Però dovrebbe fare altro Per diventarlo Magari Andà su un palco Ma è quello che dicevo prima Cioè lui secondo me Confonde Anche questa cosa Di cui si è convinto Di essere scomodo Con altro Cioè essere scomodo Non significa Risultare detestabile Perché racconti Dei fatti privati O perché magari Tendi a sottolineare Dei difetti altrui Questa è la giustificazione Cioè tu vedi che fai casino E dici sono scomodo No ma magari sei sbadato Magari sei Non sei capace Sì sì Sono d'accordo A scagliarsi contro di loro Con la classica cultura Della cancellazione In cui se un personaggio Vabbè ho appena uno Appena capito La cultura della cancellazione Per non dire Cancel culture Appena uno dice una cosa Subito lo vogliono cancellare Sai che secondo me Perché non sa l'inglese Guarda che un attimo Di cultura del cancro Quindi secondo me È meglio andare Sul italiano Cancer Eh sì sì Cancer culture Poi magari La gente Non capisce Fa delle belle opere E poi c'è uno scandalo Tutte le opere vecchie Devono essere cancellate Perché vengono Paragonate allo scandalo Di quella persona E questa cosa Penso che sia Profondamente sbagliata Quindi vi chiedo Di non assaltare Anche i canali Delle persone Con cui ho collaborato Perché non c'entrano niente Vabbè questo invece L'aspetto Diciamo Shitstorm Ci siamo già espressi Su questo Io ho trovato Abominevole Tutto ciò che È stato scaturito Questo è vero Perché Danny Ha fatto La call to action Forte e chiara Nel dire Di smettere Di seguire Domingo E questa è una cosa Che va oltre Comunque il principio Di giustizia Perché è giustizialismo Esatto E soprattutto La comunicazione Come abbiamo messo Anche in intro Cioè Farò di tutto Per Renderti la vita Impossibile Sembrava veramente Un grido Perché Danny Lazzarin Ha deciso Che la pena Deve essere Che deve Perdi i follower Ma se In un altro Paese In un'altra epoca Avessero deciso Che era Tagliargli Una gamba È giusto Perché Prendiamo i forconi Ma infatti Purtroppo Quello che facciamo noi Non è così facile Per un semplice motivo Che adesso Magari direbbero Stanno facendo la live Pro Domingo Pro Danny La volta scorsa Era pro Domingo No ragazzi La posizione in realtà È Identica Cioè se voi Prendete queste due live E le mettete Una accanto all'altra Vi rendete conto Che Semplicemente C'è una condanna Dal nostro punto di vista Ovviamente Una condanna Ai comportamenti sbagliati Ci siamo concentrati Su Domingo Oggi Su Danny L'altra volta E L'altra volta Ogni volta Diciamo Questo non significa Domingo Non abbia sbagliato Non abbia sbagliato E oggi abbiamo spiegato Ampiamente il perché Ma Tutto ciò Che è successo A Domingo Quindi La cancellazione Di cui parla Io l'ho trovato atroce E ripeto L'ho scritto anche In un commento Dicendo Maricelli Ci aveva spiegato Nel 1800 Come funziona Col mostro del villaggio Hanno fatto la stessa cosa Anche Per estrema responsabilità Di Danny E in più Questa ovviamente È una critica gigantesca Che va fatta anche Alle persone Che hanno Deciso Di Di compiere Questi atti Perché Non solo Rimuovere il follo Che dici Vabbè Alla fine Quella meno dolorosa Ma Ovviamente Riempirlo di insulti In DM Sotto qualsiasi foto Sotto qualsiasi video YouTube Andare Da tutti quanti I collaboratori Da tutti quelli Che avevano fatto Anche un solo video Con Danny Da gente come me Magari anche Esterna Leva il follo Fai quest'altro Dagli sponsor Cioè è diventata Veramente una roba Fuori di testa Fuori di testa Questo perché È stata decisa La pena Da Danny Lazzarin Appositamente Per vendetta Poi uno si potrebbe chiedere Si può comprendere Però non si può manco Di fate tutti così Regà Perché se no È spagliato Ma si capisce Il perché Stasera Noi Che ne so Parliamo dei Gallagher Oh regà Però ha trattato male Ha trattato male La moglie Ha commesso violenza domestica Anche se ancora Non uscite la condanna definitiva Nel frattempo Uccidetelo Perché Oh regà Ma stiamo a scherzare Piccato la moglie No certo Sparategli in testa No no Prima che vada in carcere No ma è lo stesso principio Dicevi John? No no Nulla nulla Quando ci sono due fazioni Eh L'abbiamo sempre detto No Si tende a Scegliere Da che parte stare Però molti ignorano Sì Che dietro C'è Dio E noi stiamo con Dio In questo momento Non sto scherzando Vai con Dio No noi stiamo con Dio In questo momento E invece Alu dice che Sono due live identiche In cui si critica Danny E si minimizza domingo Ti sei connesso da Trenta secondi A mo? Che dici? Non ci ha capito un cazzo Vabbè non voglio Perdere ulteriore di tempo Ah sì Però Ecco Mi sono ricordato adesso Volevo rispondere al commento C'è un tizio Che addirittura Complottista assoluto Ha detto Che io sapevo qualcosa Perché nell'altra live Avevo anticipato Dei concetti Che ha portato domingo In questo video Mmm Non ti hai in mente Che sia stato il contrario Forse No Considerando che Il buon domingo Che il buon domingo Postava Dei commenti Sotto la nostra live In questi giorni Quindi ovvio Cioè l'ha detto Di averla vista È stato l'utente Più attivo Di quella live Tra l'altro C'è la vista in diretta Quindi assurdo Che abbia preso Magari delle nostre analisi No? E le abbia riportate In un video No? È più giusto pensare Al complottismo assoluto Boh Non lo so Che io Prima della live Su Danny Già sapevo qualcosa Cosa poi Tra l'altro Cioè Anche fosse Qualcosa di problematico Per quale motivazione Comunque no Io con domingo Mi sono sentito Ogni tanto su Instagram Ma Ripeto Relazione ad inviti Di live Passate E poi Quando abbiamo parlato Di questa vicenda Mi aveva scritto Il giorno prima Dicendomi alcune cose Sulla cronologia Io ho ascoltato Dei vocali Ma non ho cambiato Minimamente la visione Esattamente come ho sentito Danny poi Ve l'ho detto Vabbè Era per precisare Ovviamente Ma tanto Sono sempre I stori di complottismo Sembra quasi Quasi come quando Il serpente Che si è morda La coda Chi ha copiato chi Chi è stato Il primo A pensare Quella cosa Ma anche perché Ragazzi È molto semplice Cioè Quando uno riesce Non sempre è possibile Ad uscire Da una faziosità Come diceva Simone E dalla estrema Emotività Magari riesce a dire Delle cose logiche Incontri Dio Eh incontri Dio Delle cose logiche Che Trovano magari Di scontro In una versione Più sensata Una volta Smussati I vari angoli Di lotta Feroce Tra due Tra due reggimenti No Quindi non è che È questione di intelligenza È questione di una persona Che Una persona In realtà Tutti noi Di persone Che hanno visto Un video E hanno fatto Le solite analisi Che facciamo sempre Col garantismo Di turno Con gli aspetti Problematici Senza schierarsi A prescindere Fine Con quello che ho fatto In più vi chiedo Di potermi avere la libertà Di rilasciare Il materiale Che ho già filmato Sia per i loro canali Sia per il mio Per evitare di penalizzare Dei contenuti Che vi posso assicurare Sono fantastici Quindi spero Di poter Prima o poi Pubblicare Tutto il lavoro Che è già pronto Ma per questo scandalo Ho dovuto fermare Per evitare di Creare ulteriore accanimento Arriviamo al terzo atto L'agonia mediatica Ricorderò Per tutta la vita Io ho l'agonia mediatica Perché è lentissima Altro che l'agonia L'agonia mediatica Ogni giorno Ti spegni sempre È spalmata Non è un giorno solo È sempre Il giorno del 21 ottobre Mi ha fatto rire Federico pure a mail I contenuti Che vi assicuro Sono fantastici Sì ma Vabbè Ho dici da solo Devo dire che sono bello Sergio Te lo faccio vedere dopo il trapezio Io devo dire che a me piacciono I video di domingo Tecnicamente E anche come intrattenimento Sono bei video Dai Perché Per esempio Mi dispiacerebbe Se non pubblicasse più Poi adesso ho detto Che in realtà lo farà Però mi sarebbe dispiaciuta Mi sarebbe dispiaciuta Diciamo una dipartita Del canale di domingo Al netto degli errori No ma È un discorso Abbiamo sempre fatto anche Distinzione Autore Azione sbagliata No Crimine Opera Per dirla In maniera più ampia Certo Il dramma è quando Distruggi così tanto Lo spirito di una persona Che smette di fare tutto Però noi gli auguriamo Di continuare a fare I suoi contenuti Esatto Ma anche per quello Ma spesso è anche lo scopo Di un attacco Spesso è anche lo scopo Di un attacco Ma infatti qua Ritorna la domanda Che molti si stanno facendo Danny Se ne è pentito Oppure ha goduto Perché è stato esattamente Quello che voleva Potrà risponderti a breve Con un tiktok Noi non Noi non possiamo Non possiamo Dire nulla Cioè come facciamo A sapere la verità È impossibile No ha fatto un tiktok In cui parzialmente risponde E in realtà L'aveva già fatto Anche con quell'altro live Che avevamo visto Tributata Che era dallo spero A me non sembra Assolutamente Lo ha ribadito Anche in un podcast Con Galsoli Che ho visto Quindi no Da quello che sembra Danny Rifarebbe tutto Lessi questo screen Da parte sua Che avrebbe parlato Di questa storia Io lì ho avuto Veramente il panico Perché ho detto Se lui decide Di parlare di questa cosa Raccontandola in mondo visione Tutti sapranno Di questo spezzone di live Che era già Morto e sepolto Io ovviamente Avevo già capito la lezione Perché quell'altro Secondo video Che aveva preso Il mio pezzo di live Aveva già fatto Parecchi danni Quindi non c'era bisogno Di un altro contraccolpo Lui decide ovviamente Di fare questo video Chiamando Con una copertina Che vedendola Non può far altro Che Grazie Fulvio Grandissimo Ma ci fate ritornare A 10k Regà Dai Adreni Dai Vedendola Non può far altro Che odiare questa persona Perché c'era lui In lacrime Con io Ovviamente Occultato Che sono Col sorriso Quindi anche la copertina La top copertina In effetti Guardate va Il famelico E il distrutto Ovviamente Occultato Che sono Col sorriso Quindi anche la copertina Poteva essere evitata Poteva essere fatta diversamente Perché non puoi non cliccare Una copertina del genere Lui ovviamente Lol È ovvio che uno vuole Che la clicchi Ma qua È la stessa roba Che dicevo prima Sulla diffusione Una copertina non cliccabile Dove la mette Qua sta depensando Mi dispiace Sì Non c'entra nulla Nell'intervista E per la prima volta Svela la battuta Quindi per la prima volta Veniamo a sapere Poi dire che è una scelta È un conto È la verità Dire potevi questo Potevi quell'altro Si sfocia nel depensaggio Secondo me Nel parlare di cose Potevano essere diverse Non c'entra niente Però la verità è una Quello che tu definisci Depensaggio È una deresponsabilizzazione Totale Cioè È però una live Fatta in pochi È però Gaggi Ha preso quello spezzone È però la moglie È però Danny È la copertina Avrebbe potuto C'entra un cazzo No Diverso è dire Danny È quello che penso io Danny Ha fatto di tutto Per creare Uno scenario Affinché Ha avuto questo risultato Affinché la bomba Che stava sganciando Esatto Avesse l'esplosione Più grande possibile Immaginabile Con tutti i mezzi che ha Top Oppenheimer Esatto Questo è fattuale È diverso È diverso Ma infatti io Sottolineo questo De problema Tant'è che come dicevano prima Si l'ha ribadito anche Da cazzoli Ecco lo che dicevo Per quanto domingo Stia chiedendo scusa In modo un po' Così Quanto meno L'ha detto E vedremo nel futuro Se si comporterà ancora così Magari no Non lo so Danny invece dice No no Io rifarei tutto Assolutamente Ho fatto bene Secondo me Anche io posso capire Danny che dice Lo rifarei Perché così Domingo Cioè Almeno in questo caso Siamo sicuri che Questa condotta Da tutti decretata Come tossica Smetta Ha ricevuto Una tale botta in testa Anche se magari Scorretti in alcune cose Però L'ha ricevuta così forte Che sono Bastanza sicuro Che smetterà per sempre Sì Sai qual è il fatto Ho pensato anche A questa evenienza qui Ma Quante volte ho fatto L'esempio Del maestro Che ha Una potenziale pistola Che può O uccidere quella persona O indicare la via Alla persona Cioè Avere un approccio brutale Con due possibilità Cura Morte È da adottare Per me no Cioè Secondo me Danny Ha sganciato la bomba Non pensando a questa evenienza Ha sganciato la bomba Pensando a se stesso Ok Anche legittimo Quello che dici tu È Il migliore scenario Prende una botta Così forte Che diventa più forte Anche lui No Ciò che non ti uccide Ti fortifica Io credo a questo principio Io credo Esiste No Questa cosa esiste Il fatto è che io non credo Al fatto che qualcuno Debba scegliere Quando utilizzare questa cosa Cioè Noi riceviamo Ma non è che l'ha scelto È stata proprio Un'impulsività emotiva Sì sì No no ma Infatti La motivazione L'impulsività però adesso Lo ribadisce Quindi non è più Impulsività No no Adesso è convinto Che quella dottrina Sia giusta Io no Neanch'io Cioè io ad esempio dico Mio figlio Fa una cosa sbagliata Dando Ad esempio stupido Dando lo schiaffone Lui non farà mai più quella cosa Quindi l'ho salvato Che ne so Da fumare una sigaretta Sei anni Certo Però Magari succede L'opposto Quindi proprio per ribellione Lui decide di fumare Di nascosto È l'approccio brutale Che io critico sempre Agli insegnanti In particolar modo Di personal trainer Tipo Ti tratto come un obeso Come un ciccione Ti sminuisco O play lover È lo stesso approccio Ti faccio sentire un verme Tu Se sei abbastanza forte Prendi quelle mie parole E diventi un uomo migliore Se non sei abbastanza forte però È crolli Magari ti ammazzi Sì infatti molte persone Sono rimaste vittime Di questa filosofia Un po' Da uomini delle caverne Bravo Alla endodate Sta roba qui A me fa cagare Sinceramente Poi è vero Che in molti casi Riusciamo a risollevarci E tanti traumi Ci permettono Di essere Gli uomini Gli esseri umani Che siamo Al giorno d'oggi Ma perché spesso Delle inculate Ci arriveranno Ma alcuni sono inevitabili Inevitabilmente Quindi I traumi Te li prendi E basta Non è che decidi Di farti bullizzare O meno Però il fatto Che un uomo Scelga consapevolmente Di utilizzare Su un altro uomo Questo Insegnamento Tutto rischiosissimo Per me è inaccettabile Lo è sul web Lo è in altri settori Come Quello in cui ho operato Per tanti anni Tipo la palestra Questo è quello che penso Sì Cioè tu ti ergi A giudice È una cosa Di cui accusano Anche noi In realtà È una cosa Su cui bisogna Stare attenti Se si fanno critiche Se si parla di altri Perché secondo me È molto facile Passare da Io divento Decido io Cosa dovrebbe essere giusto Ho sbagliato in terra Io non credo di fare questo Penso che non lo facciamo E niente Questo Però secondo voi Uno youtuber Decennale Che partorisce un video Che ha questo riscontro Potrebbe permettersi Di dire che ha sbagliato qualcosa O che non rifarebbe qualcosa Secondo me no Nella posizione di Danny A prescindere da quello che pensi A prescindere da quello che Nella posizione di Danny Secondo me no Perché Proprio per questo motivo Perché ciò che Che si è creato Anche non direttamente Dall'intenzione di Danny Ma ciò che si è creato È troppo grosso E un passo all'indietro Significherebbe prendersi Una grossa fetta di responsabilità Della merda Che ha scaturito Invece rimanere sul punto Eh no Ho fatto bene Perché Sono stato Mosso da Anche motivazioni Comprensibili Umanamente comprensibili Perché sa che sta Diciamo Sul carro del vincitore Se così vogliamo Ma Ci sta Perché La gente Ovviamente Non è abituata Ad avere un quadro completo Delle cose Ci sta perché È ben consapevole Secondo me Del grande grado Di emotività Tutta questa storia Un sacco di gente Ha empatizzato con lui E dal momento in cui C'hai un esercito Di gente Che ha empatizzato con te Neanche di mente Ma di pancia Puoi dire E fare quello che vuoi Non ci sarà più la logica Ci sarà solo Io devo mantenere la posizione E mantenere Questo stato di Di giustizia Di righteousness Si dice in inglese Sì assolutamente Assolutamente E quindi si sta facendo Secondo me Questa cosa Per Secondo me Un giustificato Astio Contro questa persona Ma non ci si rende conto Secondo me Che non si sta più Parlando di scazzi Tra persone Siamo in un'epoca Dove tutto diventa Gigantesco E quindi Si dovrebbe Risolvere In altri modi È giusto Che Domingo Stia chiedendo scusa E mi auguro Un loro Riappacificamento Pure io Sinceramente Anche perché Danny mi sembra Una persona Ben disposta A queste cose Vedremo Quello che dici tu Sì Ma non solo Continuare Una sorta di vendetta Nei confronti di Domingo Io penso proprio Tutelare la sua immagine pubblica Da influencer Domingo No 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 Danny È per quello che non fa Un passo indietro E aggiungo anche Un'altra cosa Sono arrivato Da pochi giorni Ad una consapevolezza Sapete che forse È anche giusto così Perché per quanto Si dica Sempre E vabbè ma Basta chiedere scusa Ogni tanto è giusto Chiedere scusa Ammettere i propri errori Mi sto sempre di più Rendendo conto Che è una grande puttanata Sul web Sul web È proprio una grande puttanata Come in politica Dal resto Tant'è che i politici Non lo ammettono mai Ma sapete perché Perché quando Viene detto Vabbè ma è un errore È umano No tutti sbagliamo In realtà poi Quegli errori Ti vengono sempre Utilizzati contro Sempre Quindi non è vero A quel punto Uno giustamente dice A che serve chiedere scusa Se io chiedo scusa Ma perché Lo sai che Su internet Non esiste il perdono È Nella vita reale Sì Nella vita umana Bravo Però questo È uno spazio inumano È uno spazio freddo Stavo pensando a quello Non è che le scuse Sono inutili Esatto Non c'è il perdono Non c'è il perdono Non incontri quella cosa umana Stavo pensando Poi quella stessa cosa Cioè io ho pensato Magari a scazzi Che abbiamo avuto tra di noi Anche pesanti Negli anni Però cazzo Effettivamente Non è che poi ci siamo rinfacciati Cose chiarite Cioè se effettivamente Uno di noi ha chiesto scusa ad un altro Poi quella cosa è morta lì Deve morire Per quello che le coppie Spesso magari Stanno a morire dentro Perché si continua a rinfacciare Sempre più cose Sempre più cose Che il passato ritorna E non svanisce mai Esatto Perdonare Significa Fare come se mi lasci Ti cancello Svanisce dall'esistenza Quella cosa lì Per entrambi Esatto Poi ovviamente L'unica cosa è Diciamo C'è la classica frase Che ripete sempre L'unica del buono Perdono ma non dimentico Nel senso che E allora hai perdonato veramente No 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 Nel senso che Poi ovviamente Un conto è Chiede sempre scuse E fa sempre lo stesso errore A quel punto È recidivo Però effettivamente Se succede un fatto Grave Come è successo Magari tra di noi Grave Per modo di dire Però Ci sono sentite scuse E poi non se ne riparla più Se va avanti E quella cosa effettivamente È sepolta E infatti magari non riemegge Nella conversazione successiva Invece sul web Tu dici Come Faccio un esempio Su me stesso Mi vergogno Della gestione Della live Avuta nel caso Di Marco Buono Parliamo Della live Della caverna Quante volte Ho detto tantissime Ok mi sono fatto schifo Perché non ho saputo Controllare Le mie emozioni E non ho saputo Condurre una live Ho detto miliardi di volte Ancora gente Nei commenti Rinfaccia quella roba E allora Ovviamente voi continuano a farlo Perché se no Mi sentirei una merda Però giustamente Da un punto di vista egoistico Uno dice Ma che cazzo Faccio a fare Certo Anzi Lo ricordo Se lo ripeto Lo ricordo Se io chiedo scusa Perché anche con Big Luca Ho fatto una scelta sbagliata Che ne so Negli ospiti O l'ho condotta male io O dovevo andare su un piano Magari Diverso Morale Se io lo dico E ammetto un errore Nella costruzione Nella quella live Di quella conduzione Lo ricordo alla gente E mi viene rinfacciata A chi te vuole romper cazzo O comunque A chi ragiona in quel modo lì Io per quanto mi riguarda Mi pento ora Dopo tanti anni Di aver detto cose Quando ero piccolo Magari Voglio fare quello Voglio fare quell'altro Anche ingenuamente Senza avere la minima esperienza Di tutto sto mondo E mi si usano adesso contro Ma ti rendi contro Ragazzetta Pesti on make up Sì ancora prima Quello ancora Per quanto mi riguarda A me piace anche il caos E mi piace pure il fatto Che non si capisca bene Chi sono Poi Se fosse per me Un mio desiderio Sarebbe quello Di cancellare la memoria Di tutti O ricominciare da zero O farmi dimenticare Quello è un mio fetiche Ogni tanto sogno Di essere dimenticato Completamente E E nulla Mi piacerebbe Se Guarda Se ricominciassi Su internet Porterei una maschera Come Gianluca Non me la toglierei mai E starei qua Con una maschera E farei il pazzo Ancora di più Ottima idea Infatti Sai di cosa mi pento io Mio caro Simone Mio caro Davide Mio caro Marco E E Mia cara chat Solo di una cosa Io mi pento Di aver levato la maschera E basta E basta Ma davvero Eh però Però Secondo me È difficile Mantenere se fai live Cioè secondo me La maschera è sostenibile In video Una volta che fai Due live al giorno Era molto difficile Era una tortura Portare quella maschera Io vi ricordate In caverna Quando vi dicevo Non stavo a parlare male No Ma lo so Davide Mi arrabbio Perché abbiamo toccato Un argomento Per me molto delicato Lo sto dicendo L'unica cosa che io mi pento Portare quella maschera Era fastidioso Era doloroso E faceva anche male Alla salute Perché ci fumavo pure dentro Sì Era un cocktail micidiano Però regà È una cosa Che può capire solamente Ma neanche Anzi neanche Non è che La può capire Chi l'ha portata Lo posso capire solo io Perché Si porta Sia chi la porta In un modo E chi la porta In un altro Lo posso sapere solo io E me ne pento Pensate che l'altro giorno Stavo addirittura A pensare Ho cambiato subito l'idea Adesso me la rimetto E switch Però Ogni tanto C'è postato Come fai Lo so Però sai che Pure Vabbè Questa cosa ve la dico Lo strizza cervelli Chiamiamolo così Mi ha detto Riassumendo Che non è una cosa Che a persone come me Fa del bene Anzi L'esatto opposto Perché purtroppo Crea un effetto Che è malsano Porta una maschera In quel modo Quindi Questo è Adesso io So full me stesso Per quello pure Non me pento De niente Pure De cose passate Ero me stesso Pure in quel modo Ma era Un altro me stesso Che è sempre me stesso Però è un'altra persona Non so come spiegarmi Però so sempre io A me È sempre piaciuta Sta cosa Che poi si è un po' persa Mi piace L'aspetto Della maschera teatrale In funzione Dell'intrattenimento Cioè Che quando tu vai in live O vai a fare un video Non sei te Cioè Ma Ti concedi Di non essere te Consapevolmente Fai ho ho E ti metti a cantare A intrattenere Poi Quando Finisce tutto Spegni E torni Alla tua vita Tu puoi essere pure Una persona Completamente diversa Da quella a cui La gente è abituata E Come ne posso dire È brutto Quando uno Dà per scontato Come sei Da cose che ha visto Online Ovviamente E Quella inevitabile Per chiunque E quindi Il discorso Essere se stessi In live Sì Però come diceva Davide Come ho detto pure altre volte È necessario Costruire Quella sorta di corazza Da personaggio È necessario Proprio perché La gente Non adotta Dei comportamenti Che dovrebbero essere umani Empatici Esatto L'assenza di perdono Ma anche La semplice distinzione E alle volte È abbastanza esplicita Tra persone e personaggio Cioè Quando ci sono momenti Durante la live In cui facciamo I cazzoni O esageriamo Là chiaramente È un'enfasi Che nella vita Nella vita non c'è Ma in questo momento Stiamo parlando Realmente Come Davide Simone e Gianluca Sì Quindi in realtà Non servirebbe neanche La maschera fisica Se non per una Componente teatrale Ma serve Per l'ignoranza Di chi guarda Sono d'accordo Infatti Io indosso la maschera Se devo avere a che fare Con persone che non siete voi Ad esempio Con la chat Oh ma che cazzo Ha scritto Quello Che sta a di Che sta a di Cosa Cioè È un esempio stupidissimo Lo sono alzato in piedi Sì sì Però è per dire Cioè con voi Sono messi Poi chi non mi conosce Capito Non neanche se lo merita Secondo me Il me stesso Vero Ma no E c'è una frase Bellissima Di un film Che ti consiglio Che è Dogman Che è proprio Sulla sulla maschera Cioè che lui Durante una performance Da drag queen Viene diciamo Corteggiata Poi per motivi Che sono spiego Per spoiler Da un uomo Che entra nel camerino E fa No ma Andiamo a cena Dai vediamoci Ma hai già visto La parte più interessante Di me Non serve che Che tu veda Il superfo Il resto Da adesso in poi È una parabola No è vero Cioè tu hai visto Il picco più alto Di me Che ha una maschera Tutto il resto Sarà minore Quindi te lo dico Mettilo in conto A me per dire È successo Specie in passato Perché adesso È una cosa Che è morta Di portare più La maschera Quando stavo in giro Quando uscivo Per strada Sono stato molto più Me stesso Con la maschera In live Piuttosto che Quando magari Riuscivo E non c'avevo la maschera Quindi è un discorso Talmente complesso E talmente personale Che regà Uno dovrei Sta qua E fa una live De otto ore Solamente Per spiegarvi bene Questa cosa E forse Non ne sarei neanche In grado Sì sì Ma sulle opinioni Si diceva Date una maschera A quell'uomo E sarà sincero Perché Esatto Ma capita pure Perché hai la paura Di esporti Comunque Anche per esempio W per vendetta Lo spiega bene Come va Quella ritenzione Dello sperma Ho fallito No Ora ristò Ristò al giorno 3 Ragazzi È sabato Non c'è Alcuno Non c'ha un cazzo Da fare Hai visto i video Dei bodybuilder Uliati Sì 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 Ho sborrato Nel gerbilling Ma poi la soluzione Secondo me c'è solo un modo Per non farsi le pippe Tagliasse il cazzo? No Farlo armeggiare Da altre persone Farsene fare Sì però ricordo Che la ritenzione Dello sperma Non significa Non fare strip Significa Non sborrare Le donne Sono un ostacolo Ovviamente A questo Obiettivo Cioè le donne Sono Belzebù Sono succubus Sono dei demonietti Infernali Usciti Che ti vogliono Far sborrare Le donne Sono il male assoluto Ragazzi Penso non ci siano dubbi In questo studio Anche il collegamento Andiamo avanti Se non finiamo più Ah un'ultima cosa Sì avete ragione anche voi C'è chi utilizza Poi la maschera Impropriamente Tipo gente Che magari lo fa Per scrivere Dietro un nickname Delle cose abominevoli Senza Accettare però Le conseguenze A quel punto Anche legali Esatto C'è molti usano Sta cosa Io avevo Il personaggio Ma era una gag Insomma Esatto Per paracularsi È vero Il 90% Di chi commenta Cose schifose Una cosa Riguardo i figli E dopodiché Spiega nel dettaglio Quello che era successo E questa cosa Ha creato Un connubio Con il pubblico Potentissimo Perché vedere Un influencer Di milioni di iscritti Che piange Che racconta Questa storia Strappa lacrime E collega Il disagio avuto Nel vedere questa live Non fa altro Che spostare Lo spettatore Dall'empatia Verso di lui All'odiarmi Completamente Lui stesso Poi dice Che questa persona Non dovrebbe Stare sui social Che dovrebbero Tutti smettere Di seguirmi Il titolo Poi chiedo aiuto È un po' esagerato Considerando che Una persona Di un milione Iscritti Ha tutti i mezzi Economici Illegali Per potersi difendere Poteva benissimo Chiamarmi al telefono E dire Guarda Se lo fai Un'altra volta Ti trascino Ti faccio Tutto quello Che ha detto Alla fine del video E questo Già mi avrebbe dato Un bello scossone Senza sputtanare Tutto a livello Mediatico E creare questa Gogna mediatica Verso di me Che è stata La più grande Buffera Mai successa Sui social Penso Da sempre La più grande Potenza mediatica Del web Qua veramente Avere la visione A campana Pot to match Però è stata Bella potente Quanto ha perso 20.000 follower Non tanto per quello Secondo me Quanto proprio Per il convolgimento Degli altri influencer Cioè ovviamente Una roba Soltanto tra due influencer Non cose Che ne so Geopolitiche Sociali Più importanti Ma sì Ma anche Come call to action Forse una delle più potenti In Italia Una delle più potenti Sì In Italia Beh no Ovvio ovvio Sì Certo In Italia Mi ricordo Era mezzogiorno Quando è uscito il suo video Da quel punto È scoppiato l'inferno In terra Mi sono trovato Con chiamate anonime Tutto il giorno Per un paio di giorni Centinaia di messaggi Su Telegram In cui insultavano Le mie figlie Le stuprieremo Come dei cani Tua moglie deve morire È come se Questi sentimenti Siano già Alberganti Nelle genti E che Si cerchi sempre Un Lascia passare Per poterli Tirare fuori Questa rabbia Proprio Quello che ti dicevo Cioè la gente Che poi chi è Quelle persone Magari c'è gente X a caso Che segue Danny Lazzarini Che vive in un paesino A caso Cioè ma poi Quello che ho sempre Pensato io Cioè condannare Ma anche Il conto è condannare Ad esempio in questo caso Domingo E scrivere un commento Ma Andare a farlo Poi anche privatamente Nel momento in cui Ti rendi conto Che tutti stanno rimando In quella situazione A cosa serve? Solo a te stesso Solo a te stesso Cioè solo A farti levare la bavetta Capito? Stai là È il momento giusto In cui posso finalmente Anche io sentirmi migliore Di qualcun altro Per me ormai Quello è proprio Una roba Da vampiro Voi che siete Fan del Cebero Podcast Quindi un po' Non vi offendete Un po' La mentalità da gregge Ce l'avete Noi che siamo Ovviamente degli Opinion leader Stiamo in un altro punto In questo ecosistema Non credo che noi Abbiamo questa sorta di Automatismo Che ci parte Quando sentiamo Qualcuno che ci dice Qualcosa Però io sono sicuro Che se ora Marra dicesse qualcosa Una call to action Si attiverebbe Una parte Cioè qualcosa In voi Che ve la farebbe fare Specie se l'avete già fatto Prima d'ora Non so dove voglio andare a parare No che è così Se non è in grado di farlo Ovviamente lo farei Lo farei con strumenti diversi Da quelli di Danny Davide sa che succede Sta cosa E c'è una responsabilità Ovviamente Però voi non dovete essere zombie E questo pure che mi preme Ma è quello che abbiamo cercato Sempre di fare Anche rovinandoci Tra virgolette In termini economici Perché è più comodo Avere questa gente È un branco di zombie Lo abbiamo sempre detto Un tizio che segue Danny Lazzarin Che magari gli ha scritto Ti uccido la figlia A domingo Cioè Da che sente Danny Lazzarin Che fa il video A formulare Che tu prendi la cosa Gli mandi il messaggio in privato E lo scrivi Cosa deve accadere nel cervello È una scelta sua O è assoggettato Come funziona E lo sapete voi Meglio di noi probabilmente Sì sì Ma poi Ripeto Ognuno Deve utilizzare Il metodo comunicativo Giusto per la propria fanbase Ma lo sai Cioè se sei uno Che ha successo Come Danny Lazzarin Lo fai da anni Sai benissimo Il tuo pubblico Chi è E come comunicare Allo stesso Per esempio Una comunicazione Simile a quella di Danny Magari per noi Per il nostro pubblico Non attecchisce No Però ne avremmo utilizzate altre Ovviamente Un altro esempio Il buon tweener Che è un altro opinion leader Utilizza Altre Caratteristiche Oddio No Tweener Ha una logica Tweener è Ha un sistema logico Mixed Non solo Però attenzione Non solo A parte il fatto che Anche io spesso Utilizzo la logica Ma la logica spesso Può ingannarti Cioè tu puoi fare Dei processi logici Ma comunque Erronei Sì non è che Una logica Non è Mic Ah aspetta te lo accenno Logica Che dice cazzate Certo Ma una sua logica Non è la verità Infatti per questo Che si confonde la logica Con la verità Sì E quello è il problema Di tweener secondo noi Ma no Più un'altra cosa Che là c'è anche Però un sentimento Molto di pancia Oltre a quello che dici Cioè Il Persegui No Quello che Ok ma poi da parte sua Il perseguitato Quello che dice cose scomode Ok Sì sì L'alternativo Che poi non è vero È solo uno che si prende la briga Di registrarle Ma sì Nessuno gli impedisce di fare nulla Ma poi ripeto Ma pure io mi pensavo Che mi avrebbero chiuso il canale Dopo tre giorni Ripeto Ero terrorizzato Cioè Quest'idea Che mi succederà qualcosa Ce l'avevo pure io Ma infatti Magari è genuina Nel suo caso Però è per dire Che ognuno Anche noi Utilizza un suo metodo comunicativo Alle volte non consapevolmente Alle volte sì Comunque Andiamo Ho avuto anche messaggi su Whatsapp Allo stesso modo E anche Poi su Instagram Mi ricordo È scoppiato l'inferno Sotto tutti gli shorts 1800 commenti In cui mi dicevano Muori Persimente Cancellati dai social Ho dovuto ovviamente oscurare Sia Instagram Che Facebook Per evitare che mi scoppiasse Il telefono TikTok fu segnalato di massa E fu completamente cancellato Su YouTube Persi intorno ai 15.000 iscritti In una giornata Poi mano a mano Si è ridotta questa cifra Ma vanno scendendo Dislike di massa Eccetera eccetera Commenti Insulti Sono tutti i video Posso fare una domanda Al volo 15.000 su Lo dico subito Check No 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 Adesso c'è una 47.000 qualcosa È una grave perdita È grave sì Ce l'aveva sui 50.000 Percentuale è grevista Ha sbrindellato Porca troia Poi aspetta Cioè 15.000 attivissimi no Cioè manca di che perdi 15.000 e basta Un po' tra pubblico e inattivo Gente 15.000 De gente che ha fatto una call to action Ti ha Allevato il follo E in più Del settore Vabbè che poi il video di Danny Si è espanso Però Dello stesso settore Quindi interessati Di più contenuti Ah 60.000 Ok vabbè comunque è tantissimo Beh ma l'ha macchiato a vita È un danno enorme Sì 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 ma a prescindere Lui è macchiato a vita Cioè Sapete come funziona il web Ah sì è quello che dicevo prima Che lui non avrà perdono Ha un fardello Ha un fardello Se uno dovesse Ragionare Probabilmente Arriverebbe alla conclusione Che è sbagliato Chiedere scusa O pretendere O aspettarsi Magari Aspettarsi Il perdono Perché come diceva Gianluca Lui rimarrà sempre quello Che ha rivelato La morte Del figlio di Lazzarin Sì poi per qualcuno No ovviamente Però nell'equazione web Questa cosa è stata già buttata Molti magari manca avranno visto sto video Se invece Io e Marco litighiamo Perché Marco ha fatto una cosa brutta O io l'ho fatta a lui Se effettivamente Ci chiediamo scusa Finisce lì Se Uno li accetta chiaramente Leggo pure un commento in chat Che dà un ottimo spunto No Sull'immagine che ha una persona Una persona che è vista dal web Come buona Che fa un attacco del genere È molto più pesante Rispetto a Una persona che non ha l'immagine Così tanto del buono Sta cosa pure Non è da Sottocampare Verissimo Cioè tipo noi Faccio un esempio Veniamo visti come quelli Che lo fanno Quindi ovviamente Lo fanno Lo fanno Però se Will usce Se ne uscisse domani Con un video del genere Un'imbettiva contro qualcuno Avrebbe una Una risonanza molto maggiore Perché ovviamente Rompe gli schemi Assolutamente sì E appunto Danny Non è uno divisivo Nei suoi video Non è uno che si espone Niente Il contrario È uno proprio che sembra L'uomo più buono del mondo Tipo Chitano Infatti Però già Chitano si espone di più Però io Prevedo tra due o tre anni Un video di Marco Chitano Tipo La verità Sul Cerbero Podcast La saranno cazzi E lì Farà 10 milioni di visualizzazioni E sarà finita La saranno cazzi Ma pensa quanta merda Che tira fuori Marco già si espone di più Però paradossalmente Cioè Marco È molto solido Ad esempio Sulle sue opinioni politiche Non gliene frega un cazzo Sì ma è bello polemico Ci piace È polemico E soprattutto è divisivo Eh beh Danny no Si trova bene con noi Danny non lo è Danny è il classico amico di tutti Poi valla a sapere Chi cazzo lo conosce Non lo sappiamo Come Maurizio Merluzzo Poi magari Non dico loro Però dietro questi I buoni Si possono nascondere Anche dei mostri Chi lo sa No io lo so Noi lo sappiamo Almeno noi siamo stronti Noi sembriamo magari i mostri Ma siamo i più buoni di tutti Guarda posso dirti una cosa Va a finire che è così Sì 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 Cioè noi in realtà Dentro siamo tipo Tipo dei chihuahuini Capito Dentro siamo tipo Dei chihuahuini Cosa confermata Già dal buon gabrone Altri che invece fuori Sembrano veramente Dei Dei ragazzi Da abbracciare E coccolare In realtà sono dei pezzi Di merda Tremendi E molte cose Mentre andavamo Vai vai No no scusa Vabbè perché c'è Le discord No no vai vai C'è un ritorno Che poi alimenta Il Quando stavo con Marco Chitano Venerdì E stavamo andando Al Al locale Dove suonava Simone Ok E abbiamo parlato Esattamente di questo Non so se te lo ricordi Marco No ma mi ricordo Solo quello che ci siamo Magnati Mamma mia Ho iniziato a urla In macchina E ho detto Quanto mi danno fastidio Queste persone che fanno I finti buoni Te lo ricordi Ah sì 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 Quanto mi danno fastidio Ma è tanto bello Essere se stessi Ma poi con la gente Che ti dice che sei uno stronzo Ma non è meglio Non è meglio Ma non è meglio Ma non lo sai Che sei stronzo Perché devi andare a letto Con i sensi di colpa Con la sindrome dell'impostore Che devi dire Ma prima o poi Mi sgameranno Che sarò una merda umana Ma fai la merda E va a fanculo Che tanto prima o poi usci Sì lui diceva Io sono stronzo E lo so Ad essere stronzo Almeno Però aspetta Non era Però diciamolo Non era riferito Io sono onesto Lo sapete Non era riferito A De Enni Lazzarini No era generale Questo qua Te lo potrete stimolare A pure Marco No non era generale Era verso un'altra persona Che non è De Enni Lazzarini Non era generale Molte persone Questa cosa Non la usano Come Tattica Bensì la soffrono Cioè sentono di dover Per forza di cose Mantenere una facciata buona E magari vorrebbero Come dici tu Essere un po' più sciolti Ma non ci riescono Cioè alcuni Sono dall'altro lato Invece altri Sono manipolatori Da quel punto di vista Che fanno i finti buoni Ma spesso è perché Stanno davanti Una telecamera Simone Questo qua che cambia tutto Quando uno deve far Finto buono Perché sa che sta davanti Una telecamera E sta lavorando E deve costruire Quell'immagine di sé Proprio quelle manine così Tipo i santoni Diventa quasi una droga Capito Ma poi vivono Con la paura Io è una cosa Che non vorrei passare Neanche per un giorno Della mia vita A star lì Che devo stare super attento A ogni sillaba Che dico Perché se no Mi cade il castello di carta Ma che vita è? Falci di merda Abbottonati Per cazzo Se un attimo Ci dimentichiamo Che ognuno di noi C'ha dei follower C'ha un canale Fa le cose Proviamo a pensare Che tipo di persone siamo Che tipo di persone Compone L'universo Twitch Io sto Osservando questo Cioè un minimo Di egocentrismo Di narcisismo Attira le persone Al mondo Del mettersi davanti Ad una Videocamera E Come posso dire Cioè chi compone Il cast Del mondo Dello spettacolo Spesso e volentieri C'è Anche Della malattia mentale In mezzo Come posso dire Dell'istrionismo Sto facendo un discorso Molto ampio Sul Cosa è Il mondo Dello spettacolo E come l'essere umano Ha imparato a sfruttare Il narcisismo Delle persone La voglia di apparire La voglia di creare E poi c'è il pubblico Che è composto Da altri tipi Di personalità Più Abituate magari A ricevere Che non hanno Questo tipo Di Ecocentrismo Ma semplicemente Godono nel vedere È tutto un marasma Però Brave persone Reali Che non hanno maschere Non manipolano È quasi impossibile Per definizione Da trovare In questo tipo di mondo No? Io le trovo Principalmente Al di fuori Esatto Io non lo so Secondo me È vero Che Le luci Attirano Comportamenti ecocentrici Le luci attirano Un tipo di persone Che in alcuni settori Hai Diverse possibilità Di mostrare Il tuo vero io Cioè In particolar modo Quello che facciamo noi Uno streamer Mette anche Per forza di cose Componenti di se stesso Anche quelle problematiche Non solo quelle positive Nel classico Lavoro d'ufficio Magari I tuoi colleghi Non le vedono Perché non hai modo Di tirarle fuori Mentre sta La scartabella Dei dati O fai tabelle Però magari ce l'hai Quindi forse sono più evidenti In questo mondo Perché abbiamo più margine Per mostrarle E anche nel mondo Dello spettacolo Negli strivoni Cioè dove hai più margine Di dare dei pezzetti Di tè È normale che ci siano Anche dei pezzetti Del tuo tè Più schifoso Chiaro Questo penso E mi chiedo Chi è che Fa successo In questo mondo Ormai ci sono passati Abbastanza anni Per capire Chi è che rimane Chi è che non rimane Cioè Indottrina al pubblico Che è una mossa Sacrosanta Dal punto di vista Dell'economia Del brand Quindi devi creare Una sorta di ghetto Se così vogliamo Un tonto villaggio Esercito Esercito Indottrinamento tipico Da Non so scherzando Da Dittatura Pensateci ragazzi Spaventoso Le dittature Cioè quelle che hanno Il massimo Bisogno del consenso E il Il più alto Bisogno Dell'assenza Di dissenso Cosa fanno? Creano un popolo Di indottrinati Giusto? E sono quelli più fedeli Quelli che morirebbero Per te stato Per te patria Morirebbero per te Influencer Quella è la prima cosa Secondo me E alle volte Questo succede Anche perché Scegli un target Che è facilmente Indottrinabile Ma non lo fai per il male Infatti i veri Influencer Sono quelli per bambini Sì Io l'altro giorno Sono andato Sabato Sono andato A vedere Lucilla Kids Che è un canale In realtà Credo americano Ma anche la versione italiana Ah regà Cioè Là mi sono reso conto Questo è il vero potere Cioè c'era Una quantità di gente Impressionante Ovviamente perché poi si porta Cioè non è che il bambino Dei due anni Come mi fiava da solo No? Quindi ti porti la data Ti porti il papà La mamma Il fratello La sorella Cioè era proprio altro Che c'erbero parti Ma lo spettacolo Infatti com'era Cioè in che consisteva Ma ci stava Lei in playback Le canzoni che Ovviamente i bambinetti Sentono su YouTube Più interazioni Diciamo classiche Ma era intrattenente Sì Ci stava Balletto C'erano altre ballerine Lei è brava a ballare Poi ripeto Non cantava A parte un momento In cui ha cantato a cappella Anche molto intonata brava Però Ovviamente erano canzoni Molto lunghe Quindi non è che era Un grande concerto Però Cioè quelli sono i veri I veri poteri Cioè i me contro te Sono veramente potenti Altro che Danny Lazzarin Cioè quelli C'hanno il potere vero E poi appunto I luoghi in cui ci sono i bambini Sono quelli in cui Ti possono spellare di più Se ti spennano Proprio come Un galletto Cioè sul cibo Che te lo fanno Costa 40 volte tanti Biglietti Perché tanto Lo fai per tuo figlio Quindi sei disposto a dare tutto I me contro te Sono anche potenti E l'invidio Perché sono quel tipo di creator Che sta in una realtà Sospesa Sì Però non realtà Sospesa egocentrica Da esercito Perché c'è Il discorso Non era per il male È una realtà Sospesa per il bene Cioè ovvio che Non è la verità Quello che vogliono Rappresentare Ma è una cosa Completamente a servizio Ovviamente di un target Specifico Intrattenimento per bambini Esatto Dove però non hai margine Di mostrare Come dicevamo prima Parte di te E invece la stessa dinamica Di realtà Sospesa Con un influencer Che si crede Sto cazzo La dinamica È la medesima Certo che lo Però lì Si creano i danni Si creano i danni Perché tu vai fuori Dal seminato Invece se fai Dei contenuti per bambini Sai che hai dei limiti Cioè non è che Contro te Si possono mettere a parlare Di certe cose Non credo che domani Uscirà un video Ok no Su Israele Palestina Ovviamente no Quindi ti esponi Meno politicamente Socialmente Su alcune opinioni E fai delle cose innocue Fondamentalmente Poi anche lì Cioè il contenuto Che dai ai bambini Può anche Non essere innocuo Tant'è che i programmi Che noi abbiamo visto Nel corso del tempo Sono stati anche Sotto il baglio Di determinati controlli Insomma Di medici specializzati No Sì Dell'infanzia Dell'adolescenza Eccetera Però in generale Tu rimani lì E quelle sono maschere complete Cioè non è che tu dai Qualcosa di te Quando invece Lo fai per persone più adulte Non è che il rischio aumenta Perché c'è Ripeto C'è il rischio anche Per chi lo fa per i piccoli Però non hai La necessità Di quel baglio Cioè non hai Quelle regole scritte Quindi un Matt Carus Può farlo Sì ma poi La realtà sospesa Tu non è che lo fai E spesso e volentieri Tu non sei consapevole Della realtà aumentata Che stai vivendo E della realtà aumentata Che vuoi inculcare Magari se fai l'influencer E quello è peggio Perché alcune persone Vivono una realtà aumentata Cioè Si ritengono cose Che non sono Quindi vivono Una realtà distorta E cercano Giornalmente Di convincere Se stessi Con pensieri Autoconfermanti Di questa cosa E gli altri Cioè in quello che dicono Quando questa cosa Avviene in un influencer È il palatrac assoluto Se non è consapevole Ma infatti per questo Che ecco Una live Di cui assolutamente Non mi vento Ma anzi Che rivendico ogni volta È proprio quella Anzi quelle Che abbiamo fatto Su Twinner Anzi quelle Le rivendico Per me è stato sacrosante Il discorso che abbiamo fatto E non è stato capito Perché Non è stato capito Proprio perché Vai Davanti ad un credente Ad un fondamentalista E gli dici Non esiste Dio Esatto E noi però Anche noi però Dobbiamo evitare Diventare degli dèi Dobbiamo costante E questa secondo me È la cosa più faticosa Che facciamo Faticosa ma soprattutto Dobbiamo costantemente Ricordare che non lo siamo È faticosa ma soprattutto Non è remunerativa Infatti la nostra È una scelta folle Dal punto di vista Del marketing Ma È onesta ma stupida Certo Perché è ovvio Non è onesta Hai detto bene Sì è onesta È onesta ma perché Noi siamo così Ma non è perché siamo più buoni Perché non saremmo in grado Di mentire a quel livello Secondo me ha molto La mia influenza Sì 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 Ok Molto E perché spingo molto Su questo Perché mi sono reso conto Che non si poteva più Ragionare come Degli avatar Specie per quanto riguarda Interfacciarsi con il pubblico Se devi fare un'intervista Non gli posso fare il Wendigo Cioè Stava diventando Troppo ripetitivo E troppo Come quella cosa lì Sì perché poi Dei token Sì Eppure cresciuta A nostro malgrado Cioè non è che ce ne siamo resi conto Ma Per correggere una cosa Che ha detto Davide Ma per spiegare Il mio Punto di vista Non è che non ci riuscirebbe Secondo me È anche troppo facile È molto più difficile Essersi Stessi Perché stai coi fianchi scoperti Infatti Secondo me È una cosa Che uno ci arriva Con tanto tempo Siamo tutti partiti Da una gimmick Per arrivare poi Adesso Il presente E vi assicuro A voi da casa Che non lo sapete Che è molto difficile Essere così Perché sei completamente scoperto Sei vulnerabile Però poi diventa anche La bellezza E lì Intrattenimento vero Per chi te vede Per quello poi Si parla Onestà Ma anche coraggio Pure se sembra Un autopompino Però è anche coraggio Lo possiamo dire Devo rispondere Certo Devo rispondere A Endershade98 Che dice Non sono d'accordo È una scelta Come le altre Alla fine curate Il vostro personal branding Dato quello che facciamo E le cose di cui parliamo È l'unica scelta Non è come Appunto Per i me contro te Che appunto Fanno contenuto per bambini E quindi scelgono loro Come gestirsela Che personaggi inventarsi Noi se dobbiamo parlare Delle cose concrete Di problemi reali Di cose Inerenti alla realtà All'analisi Non Cioè Essere noi Scevri Da qualsiasi Imbellettamento Imbellettamento Psicologico Che noi Ci facciamo da soli E che vi proponiamo A voi Non si può fare E fortunatamente È una cosa che Me ne so accorto A un certo punto Se no io non so Dove sarei andato a finire Io personalmente Uso il me Non so dove sarei andato A finire Se non avessi Compreso molte dinamiche Quindi Io sono Cioè Come Danny Lazzarin Rimango su questa via Assolutamente Io lo so Penso sia la via giro Io lo so invece Avremmo fatto tanti danni Eh Come quelli che parzialmente Stavamo per fare O che abbiamo parzialmente Fatta all'inizio Sono d'accordo Poiché inconsapevoli Avremo distrutto Tanti domingo Eh È per questo che siamo In grado oggi Di fare questo discorso A Danny Meno male Sono da casuale Sì Ma ragazzi Quello è stato successo Cioè Nei primi mesi Non avendo Compreso La portata Dell'esercito Non l'abbiamo Neanche tamponato Però Era molto più Remunerativo Perché Eravamo percepiti Come potenti Come tu in adesso Potentissimi Inossidabili Appena qualcuno Si permetteva Di dire Oh ma il Cerbero Secondo me Si esagerava Booo Quelli che ai tempi Erano i gubbelini Tossici Rompevano il cazzo Invece adesso Abbiamo l'autoscam Che da una parte Non ci difende nessuno Perché se ci attaccano Le merde Che dicono puttanate O quelli che dicono Delle cose sensate Difficilmente arriva Il Cerberino Che ci difende Per questo discorso Che stiamo a fare A partito preso Esatto Oppure lo fa Però Come è giusto che sia Come dovrebbe essere Diciamo magari dicendo Ok questa è una bugia Perché tutto carino E poi arriva un artitreno Pezzo di merda Se in Cerberino C'è il cancro Oh Blur Mi ha detto Che chi segue il Cerbero C'è il cancro Quindi Capito E quindi ovviamente È una guerra impari Però sti cazzi Cioè da una parte Certo quello che diceva Il personal branding Da una parte Ci rende almeno Per quelli onesti Intellettualmente Credibili Quello sì Quello fa E certo che non potremmo Fare che ne so La battaglia Che ti posso dire Alla ludopatia Su Twitch Se avessimo fatto Il giorno prima Che ne so 18 ore al giorno Dei casinò Per tre mesi Quello ovviamente Non avrebbe forza La critica successiva Anche se sarebbe Magari una critica giusta Lo stesso Però Sì Poi per quanto riguarda Intrattenimento E maschera teatrale Si può attivare Quando magari esageriamo E facciamo le cose Lì la vedo come Si attiva La modalità Ultraistinto Personale Che ha Per ognuno Un colore Diverso La mia Ultraistinto Si vede Si configura In un modo Ed è palese Quella di Davide In un altro Quella giuro Qui in un altro Marco Ultraistinto Io non vi consiglio Mai di vederlo Perché ci sta per entrare Adesso Perché lo vedo Delle espressioni Che fanno Andiamo avanti Andiamo avanti Che devo pure andare Grazie da che pirina Velocizziamo Però regà Io voglio dire una cosa Su Sofì Dei me contro te Ma io voglio dire qualcosa Ognuno deve dire qualcosa Ognuno un monologo Da dieci minuti Però posso essere onesto Non so che se parla Devo 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 Io a Sofì Dei me contro te Gli darei Tanti Tanti piselle Vabbè Andiamo avanti Dai No Eccoli Guarda qua Molto buoni Guarda Non si vede Perché c'è il green screen E per lui Ci stanno pure le patate Però non si vede bene Un po' eterei Io invertirei Invertirei I cibi Dici Matteo Schiavon Che aveva recentemente Fatto un video da due giorni Sono andati a attaccare Anche lui Negli altri canali C'è se creato proprio Un'orda Di pazzi Sono venuti a A scrivere cose Di ogni tipo Ora io non dico Che non mi meritassi In parte tutto questo Ma non di queste proporzioni Non possiamo paragonare Un canale 60.000 iscritti Con la potenza mediatica Di un influencer Che non solo Racconta questa cosa Ma chiede aiuto A tutta YouTube Italia E imbalza anche Questo video Su tutti i social Instagram Tutti gli altri E quindi si crea Una sorta di caccia all'uomo Verso me stesso Con gente che rischia Addirittura Che sarebbe venuta A prendermi a casa Io ovviamente Mi ricordo che Sono stato male Tutto il giorno Adesso sto molto meglio Se avessi fatto questo video Il giorno stesso Mi avreste visto Il lacrimare O mi avreste visto Il lacrimo Mi avreste accusato Di strumentalizzare tutto Quindi Vi sto facendo questo video Con lucidità Non sto parlando di pancia Sto parlando molto Razionale Per quanto la cosa Mi abbia molto colpito emotivamente Perché Mi ricordo Che avevo Dei Gli scrivevano pure a lui Dicendo Vergogna Ti stai con un fratello Del genere Eccetera Eccetera Mi ricordo Avevo persino Paura di uscire di casa E poi ho detto Ma adesso Tutta Italia Sa quello che ho fatto O meglio Allora qua la sbrigo Proprio la La finisco velocissima Questa parte Credo sia vera Cioè qui Non l'ho vista Assolutamente come una componente Di vittimismo Perché Regà Magari voi Non vi siete mai trovati All'interno di una shitstorm Social Ma va sicuro che Veramente Era merda Ed è credibile Visto quello che era successo A lui In quei giorni lì Cioè posso capire La paura Posso capire La voglia di Far Cioè tipo La sensazione Voglio che tutto finisca Cazzo come se torna indietro Cioè Su questo Credo sia molto sincero E non penso sia una paraculata Cioè Ha percepito un messaggio Come se io avessi veramente Parlato del suo lutto Come se avessi riso Di quel lutto Come se avessi diffuso Video audio in giro Raccontando quella cosa Su gruppi C'era un vocale in realtà Che era girato Che avevo detto Che avevo fatto piangere Alcune persone Perché mi capita a volte Di fare delle domande Punzecchianti Queste persone hanno un corole emotivo Ma non ho mai E dico mai Vantato di questa cosa Anche nel suo caso Quando dico Mizzica ho fatto collare Non era per dire Ragazzi L'ho fatto collare Ma in realtà Ti paragonavi a Ricky Gervais In modo tronfio Che io ricordi Per me sì Quella live sì Però vedi pure qua Paraculo Dove parlavo al plurale Quindi è una cosa In realtà di cui lui si vanta Ma pure là Danny aveva detto altro Aveva detto Quella storia Stava già girando Su gruppi Whatsapp Gruppi Tele Era la storia del figlio Eh quella però Si è specificato proprio del figlio La storia Però vabbè Comunque aveva detto Io l'ho fatto Per mettere attacchi No no Io l'ho fatto Non mettendola io In pubblica piazza Ma già Quella roba Leggiava Già pensavano di Eh vabbè Poi magari non lo sapeva Effettivamente pure Danny Pensava Qualcuno Gli aveva detto che Può essere tutto Quello che ho detto prima Cioè comunque Sta andando a dire L'incipit della storia Se non vuoi che si sappia tutta Non è che si farà dire Solo come inizia No no Ti ripeto Però capite Quanto è da ridimensionare Il tutto Certo È stato ovviamente Percepito male E qua la responsabilità Va pure a tutti gli altri Influencer che sono Di appresso Vabbè ma Ciccio Kemero C'ha la ragione No Ciccio Kemero Il fatto che non si vantava Ciccio Kemero C'ha sempre ragione Il fatto che non si vantava È irrilevante Sì sì ma infatti Quel video È uscito Tempo fa Se lui non tirava fuori Quella cosa Non sarebbe accaduto Nulla Perché è successo Tutto questo Perché lui Dopo che è uscito Quel video Dopo mesi Stava a rintuzzare Su questa cosa E ora sta a fare Il paraculo Vuole piare per culo Ma non puoi piare Per culo Persone che ci hanno Un c'è Il vello Perché altrimenti Se non avevi fatto Quella cosa Non sarebbe accaduto Nulla E ora si ritrova In questa situazione Perché ha usato Quel momento A suo favore Aggiungo Non solo Come non potrebbe Non essere un vanto Non solo Si ritrova in questa situazione Per quella sua colpa E per la colpa di Danny È molto importante Ribadirlo Un momento Che ho fatto la battuta Lui è uscito Per colpe diverse Attenzione Come ho spiegato Ma la situazione Della ghigliottina pubblica È per Due responsabilità Completamente diverse In fasi Completamente diverse Altrettanto gravi È ciò che Bisogna evitare Grazie Grazie Ed è totalmente falsa Questa costruzione Io ho raccontato Di aver fatto una battuta A lui Lui ha avuto Neanche a pianto Ha avuto una reazione emotiva Una commozione E è uscito dalla videocamera E poi ho spento Quindi non possiedo Il filmato originale Ne avrei mai pensato Di ricattare nessuno Ne volevo ferire qualcuno Con questo racconto Allora Gesù Cristo Di Colucci Non me ne fotte Un emerito pisello Finché io non vedo vocali Non vedo vari vocali In vari gruppi In cui viene detto questo Puoi dire quello che vuole Colucci Puoi dire quello che vuoi tu Puoi dire quello che vuole Domingo E puoi dire quello che vuole Danny Lazzarino Chi è Colucci? Un altro che ha parlato Di questa roba Non me ne frega nulla Beh Questa cosa che dice È una cosa gravissima Ciccia Qualora fosse Cioè Colucci Che è nel gruppo In un video In cui ti risponde Ha detto che è girato In un vocale di Domingo In cui parlava Del motivo del pianto Sì è però È un vocale che non si è mai sentito Esponilo E soprattutto Esponilo Carota Neanche Danny ha ripreso sta cosa Anche quando ci ho parlato io Ma pubblicamente Danny Non ha ripreso sta roba Quindi attenzione E torna al suo discorso Non dovete credere a prescindere Nessuno si era accorto Di cosa stessi parlando Tant'è che qualcuno Nella chat mi chiese La questione di Federossi E gli risposi sì È quella Per calmirare qualche curiosità Quindi la cosa era morta lì Il video è stato cancellato Se non fosse che qualcuno L'ha salvato Invece di mandarlo privatamente a lui Per evitare che la moglie Lo venisse a sapere Ha preferito sbaglierarlo ai 420 Vantandosi pure E facendo confessare la moglie Il giorno dopo Io non so perché lui Non ha parlato di questa cosa Perché qui io sono quello Che ha creato il materiale Ma lui è quello Che lo ha diffuso in mondo visione Quindi ci sono delle colpe Divise per più soggetti Perché qui abbiamo tutti sciacallato Io di certo non posso guadagnare Qualcosa con 350 like Che era una stupidaggine Poteva essere anche 10 like Chi ha preso il mio video E l'ha fatto andare in tendenza Con 80.000 like in due giorni Chi poi Giustamente Si è sfogato Ed è andato in tendenza Al primo posto Con 2 milioni di visualizzazioni E tutto monetizzato E mi accusano a me Di mercificare con questa storia Con un video che era finito Dentro una live di 3 ore Senza una copertina Senza un clickbait E che avevo cancellato Dopo almeno una settimana Ormai questa storia Di dominio pubblico La mia reputazione È stata completamente infangata Non che fosse buonissima Però dopo questa Veramente Ognuno pensa che sia un mostro Che abbia voluto giocare Ridere su un lutto Che hanno subito Di cui mi dispiace Ma non è colpa mia Se hanno avuto questo lutto Ma non può passare il messaggio Che è per colpa mia Che hanno perso un bambino Quindi mi sento una sorta Di caprio spiatorio quasi Come se tutto Questo però Pure Danny Aveva sottolineato Questa cosa Un cappio L'avevamo detto Non nel video iniziale Ma nell'altra live Effettivamente a un certo punto Mi ricordo che abbiamo detto Vabbè sì Ma non è che gli ha ammazzato Domingo il bambino Cioè perché Non si può mettere Sullo stesso piano Che disse proprio Non si può mettere Sullo stesso piano Domingo che ha ricevuto Una shitstorm E noi che abbiamo perso Un bambino Erano due cose diverse Non era quello il punto Quindi attenzione Colpa mia Un sacco di canadi Hanno cominciato a dire Ah ma con lui Era successo questo Ah strano Era simpatico Salutava sempre Eppure è uscito fuori Un mostro Chi ha cominciato a darmi Dello psicopatico Del macellaio Oltre a questo Ho avuto anche Un danno patrimoniale Per la parte Di tutti gli sponsor Molta gente Presa delle emotività Ha smesso O ha negato Di voler fare acquisti Con il mio codice Il secondo giorno Ovvero il 22 ottobre Io avevo una gara di panca E avevo quasi paura Ad andare al palazzetto Perché non si sa mai Se fosse qualcuno Che volesse veramente Picchiarmi Perché le minacce di morte Con tutt'ora le ricevo E invece ho trovato Tanti atleti Che sì Hanno disprezzato Quel video Però hanno capito Che non l'ho fatto Con cattiveria Che l'ho fatto Con molta ingenuità E superficialità Cioè non avevo Proprio intenzione Di ferir nessuno In gara sarò Completamente straziato In ansia Questa è una paraculata No no Non è vero Non sono d'accordo Ma lui ha fatto tutto Per ingenuità Non c'era un pizzico Di cattiveria Non c'era un pizzico No io dico Della tenuta sua Psicologica In genuità N'abbiamo già parlato Quello sì Grazie al cazzo Una shitstorm No 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 Eppure la più merda Delle merde Sì sì Succede No no È chiaro Tutto quanto In genitù acquare È il suo modus operandi Era il suo modus operandi Era tutto quanto Ai danni di Danny Come lo ha fatto Pure in passato Con altre persone Non è un astro Ma l'abbiamo già detto Gianlu Non ci ripetiamo Eh Però mi fastidisce No va ribadito Dai Ti aveva ribadito Il suo modus operandi Stressato A tal punto Che farò una gara Super giù Bene Ma Tutti mi hanno visto Abbattuto Solitamente Sono una persona Molto sorridente Io che Quel giorno Ero praticamente A pezzi Mi ricordo Che un giorno E sta facendosi Passare Come dice Gianluca Per innocente Ingenuo E questo non è Ovviamente C'era la La malizia Palese Basta Se capiva pure Con i pixel La malizia Quindi Mi sentivo tutto il mondo contro Perché vedere tutti i post Di gente che si dissociava E molti che godevano Molti che godevano Al fatto che Stessi perdendo Ottimi sponsor Mi ricordo che durante la gara Vengo a sapere che Nocerino aveva fatto una live In cui Diciamo che Condannava il gesto Però non condannava la persona Come tutti E stava Prendendo le mie difese Questa cosa ha fatto incazzare Potente persone Perché ormai la campagna era Colpisci il mostro E stai con l'altra persona Al 100% Legittimo Più che altro Ma non l'accarimento E mi ricordo che Alla notizia che Piero Aveva fatto questa live E mi avevano scritto Domingo guarda che Le persone parlano bene di te So perché Fortamente Vuoi rispondere a Milazzo No Ho già risposto in un'ora di live Lo so che sorridi sotto i baffi Ma abbiamo detto Penso 75 volte Che ha scritto Che è una paraculata Che è una giustificazione Ok Mi devo togliere il dubbio Che tu abbia qualcosa Contro Lazzarin Ma che devi togliere L'ho detto per 45 minuti Perché penso che Ha leggi Ma che ha leggi Non ha leggi Ma cosa Ma che mi frega De Lazzarin o De Domingo Ok Che c'è una sorta di Di bilancia che pende Non è una bilancia La bilancia Penso che Basti riguardare L'ora precedente Di questa live Semplicemente Ritorniamo a dire Una paraculata Secondo me Non è una paraculata Il fatto che L'abbia vissuta di merda E ha ragione Gianluca Anche una merda umana La vivrebbe di merda In una situazione del genere Ma è inutile Ripeto ogni volta È una cosa vittimista Abbiamo capito Cioè è chiaro Che è la prima cosa Che ho detto Anche ieri Ne storia La prima cosa Che ho detto È stato autoindulgente E ha fatto passare Leggerezza Per sadismo E E superiorità È la prima cosa Che ho detto Ripetuto almeno Dieci volte Insieme a tante persone Che mi avevano scritto Un supporto Dai Domi Stai bene Mi raccomando Questa cosa Mi ricordo Che mi ha Mi ha fatto venire Una sorta di pianto Un pianto viscerale Che stavo cercando Di trattenere E mi ricordo Che c'era Pici E mio fratello In gara Io a quel punto Sono corso Verso il bagno Per Per lasciarmi andare La prima volta Ho cominciato a piangere E mi ricordo Che stavo Così stavo Loro sono corsi Verso di me E mio fratello Mi ha cominciato A carezzare Dai un mico Tranquillo E Phil Siamo conti Domi Non ti abbandoniamo Domi Domi Anche se Tutti quanti Mi vogliono male Io Continuo a fare video Con te Non ti preoccupare Questa cosa Mi ricordo Che Mi ha veramente colpito E questa cosa Non me l'aspettavo Perché solitamente Avevano tutte le persone Che mi volevano merda E pensavo che Non mi volevano Questo non è cringe Sì è la verità Ah È la verità Ah no Ma anche Non capisco qual è il problema Dobbiamo andare contro di me Perché È divertente Perché lo sai Percepi contro di te Andate avanti da solo Oh Ma che è successo Non ho capito Boh Ho toccato il tastino Io non vado avanti da solo Perché di questa storia Se fosse per me E non si farebbe nulla Perché non me ne frega un cazzo Ciao Che squali State arrivà E' no Crocian Sto è la parte Sto è la parte Sto è la parte Sto è la parte Sì Spetren Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti